Io vi ringrazio, ringrazio molto Andrea Borsari, Valentina Antoniolo per questo invito, ma dall'idea, dalla cacchierata che abbiamo fatto inizialmente soprattutto con Andrea, è venuta fuori l'idea di presentare alcuni contenuti di questo mio ultimo volume che rispetto al vostro dibattito hanno una valenza più generale. Diciamo che attraverso il mio intervento vorrei che ci interrogassimo insieme su che cosa sono diventate le immagini contemporanee, le immagini algoritmiche, come sono cambiate rispetto alle immagini anche cinematografiche, televisive e quindi come si richiedono da parte anche degli studiosi, oltre che semplicemente diciamo così come cittadini, delle cautele e delle attenzioni particolari. Questo è un po' l'oggetto delle cose che vorrei dire, a partire però da un esempio specifico che inizio subito a presentare, da quella che chiamerò una realtà mascherata, una disguised reality. Dunque vi racconto una storia, parto da una storia. Nell'ottobre del 2019 la piattaforma, o meglio alcune piattaforme, ma in particolare Instagram, bloccarono l'uso di alcuni filtri che consentivano di simulare sul volto dei propri utenti, sui selfie dei propri utenti, alcune operazioni di chirurgia estetica. Questi particolari filtri avevano infatti dato luogo ad alcune polemiche e in un caso, sembra, erano collegati al suicidio di una ragazza, di una ragazzina in Inghilterra. Questo ban fu di durata abbastanza corta, perché già nell'agosto dell'anno successivo, il 6 agosto 2020, questi effetti furono reintrodotti, chiamati di face altering, però intanto era nata una vera e propria comunità di creativi, Spark e AR, che ancora esiste, è molto florida. Dunque c'è stato una, all'interno diciamo degli effetti, delle gallerie di effetti di Instagram, sono stati reintrodotti questi particolari filtri. Usiamo la parola filtri, usiamo la parola AR, augmented reality, però in realtà si tratta di una tecnologia un po' diversa, come adesso spiegherò. In realtà Instagram non poteva bloccarsi, non poteva bloccarsi perché? Perché intanto altre piattaforme stavano ampiamente usando questo tipo di tecnologia, per esempio Snapchat, per esempio TikTok, che adesso sta reintroducendo una seconda generazione di filtri di, diciamo, realtà aumentata. C'è stato una, dunque, un'espansione, una massiccia crescita anche di utenti legati all'uso di questi filtri, ma al tempo stesso c'è stato anche un forte investimento industriale, perché molte imprese hanno iniziato a utilizzare questo strumento come uno strumento per farsi conoscere soprattutto dalle audience più, più giovani. Vorrei farvi vedere adesso un filmato che presenta. I'm Sue Young, and I'm the Product Director for Spark AR. If you turned into today's keynote, you heard about the big bets and latest efforts on the road to AR glasses. And one of those, of course, is Spark and the thriving community that we're supporting today. Spark has captured the hearts and imaginations of so many types of people, from students to designers, to animators and developers, all coming together all over the world to help shape and define this new medium. In fact, over the last year, Spark has been used by over 400,000 creators from over 190 countries. From the start, we intended Spark to be inclusive. We have the opportunity to empower everyone to share their unique perspective. And that is why I'm so happy to share that over half of Spark Studios' monthly users are female. It's an exciting time to be a Spark creator. AR is more popular than ever with people across Instagram and Facebook all coming together to use their friends. To date, our creators have published over 1 million effects. And more than 150 of those effect creators have over 1 billion views. Like Instagram Reels. Now video creators can use your AR effects in Reels. Everything published in Instagram works on Reels too. And we're excited to share that we're opening up messenger and portal to third party effects beginning early next year. SON Dunque c'è stato un rebranding di questi effetti sottolineando gli aspetti creativi, in maniera da moltiplicare la possibilità sia di essere creatori sia di essere fruitori. Ora, bisogna dire che questa tecnologia ha delle applicazioni abbastanza idiote, insomma abbastanza futili, come dimostro io stesso nelle vesti appunto di alcuni noti personaggi. Però, anzitutto, dietro questi effetti c'è una tecnologia molto complessa, perché è quella tecnologia, diciamo, di lettura biometrica del nostro volto, lettura biometrica e successiva rielaborazione digitale mediante particolari algoritmi, che è una tecnologia usata anche, come vedremo tra poco, in altri ambiti. Quindi non sono, diciamo così, non è il vecchio, non sono i vecchi effetti di fotoritocco, di Photoshop. C'è una tecnologia molto più avanzata, consistente nell'uso di algoritmi di machine learning di ultima generazione. Inoltre, al di là di questi effetti fatui, diciamo così, ci sono degli effetti più seri. Abbiamo già visto prima il discorso della chirurgia estetica. Questo si lega al fenomeno della beautification, cioè l'enorme diffusione, soprattutto tra i giovani, di effetti di AR che modificano i propri tratti mediante una serie di tecniche molto specifiche, ingrandimento degli occhi, ingrandimento delle labbra e così via, e che, a detta di alcuni osservatori, possono avere e hanno degli effetti di, diciamo così, più lunga durata e anche più profondi, e pongono dei problemi etici non indifferenti. Per esempio, c'è tutto il discorso di quella che viene chiamata la selfie esteem, non la self-esteem, ma appunto la selfie esteem. La stima è anche, diciamo così, la rappresentazione di se stessi, soprattutto da parte dei giovani, dei giovanissimi, legata alla manipolazione dei selfie. C'è anche un aspetto, diciamo, non solo di gender, ma anche razziale. Per esempio, è stato notato che uno degli aspetti di questi filtri è il cosiddetto whitewashing, quindi lo schiarimento della pelle. Uno stesso discorso viene fatto a proposito del labilism, cioè della ristrutturazione visuale dei tratti di persone con deformazioni, mongoloidi, eccetera. Dunque, queste alterazioni possono avere degli effetti anche profondi. Ora, questa ridefinizione della realtà in base alle capacità creative della comunità, appunto, di operatori, è stata, questo redefining reality, appunto, è stata definita come una realtà aumentata. Il termine non è giusto. Il termine tecnico più opportuno sarebbe quello di una mixed reality in cui una serie di dati fotografici vengono radicalmente, diciamo, blendizzati con dati digitali per dar luogo, appunto, ad un'immagine ibrida, mista. Ma sotto questo aspetto possiamo arrivare a parlare, appunto, di quello che ho chiamato una realtà mascherata. D'altra parte il tema della maschera percorre, no? Tutte le riflessioni sul volto. La trasformazione del volto in maschera è uno, insomma, dei temi, a mio avviso, più interessanti da indagare. Questo esempio che ho assunto e che, diciamo, continuerò a tenere presente nel seguito di questa conversazione, mi permette di introdurre i temi chiave di cui vorrei parlarvi. Dunque, le immagini contemporanee, secondo me, sono oggi da considerare come, anzitutto, degli oggetti tecnologici, quindi non solo tecnici, vedremo, ma tecnologici, poi degli oggetti pratici, degli oggetti che entrano nella nostra vita, ci attirano all'interno della propria vita e comunque sono dotati di una radicale agentività, come dicono anche gli antropologi, oltre che i sociologi, e poi sono oggetti che propongo di considerare economico-politici in un senso che introdurrò, appunto, nell'ultima parte. Dunque, anzitutto, le immagini sono oggetti tecnologici. Già negli anni 80, Wilhelm Flusser parlava del cinema, della televisione come oggetti tecnici, cioè come immagini tecniche, immagini costituzionalmente legati ad una produzione tecnologica, che in quel caso era, appunto, la tecnologia della fotografia e la tecnologia dell'immagine elettronica. Oggi noi abbiamo una situazione diversa, anche se sembra uguale. Il modo in cui le immagini vengono costituite passa, infatti, per una serie di passaggi, di steps. Abbiamo o una partenza basata su una traccia, e quindi su pattern di fotoni catturati da sensori, oppure in alcuni casi l'immagine viene radicalmente disegnata, e quindi è basata su una serie di equazioni e di dati, che attraverso delle interfacce entrambi questi tipi di elementi vengono tradotti in dati, e quindi danno luogo a dei dataset. I dataset vengono variamente lavorati mediante manipolazioni, combinazioni o estrazioni, dagli uni dataset vengono estratti e altri dataset, che ha un minimo di confidenza con i processi di programmazione, anche molto semplici, i processi con Python, eccetera. Sa bene, insomma, come attraverso le tuple, attraverso vari tipi di ordinamento dei dataset, si possano appunto manipolare, combinare o estrarre, in maniera da arrivare a dei data cubes, cioè a degli insiemi più complessi e tridimensionali di dati. A partire da qui, i dati possono essere o in direzione inferiore, tradotti in azioni pragmatiche, come quando un braccio robotico toglie un prodotto difettoso dalla catena di montaggio, oppure possono dar luogo ad un altro tipo di attuatori, attuatori potremmo dire sensoriali, che sono appunto gli schermi, tutti i vari tipi di visualizzazione dei dati. Dunque, non c'è più quel rapporto, vorrei dire, cioè direi abbastanza, relativamente diretto, tra dispositivi di captazione dell'immagine e dispositivi di restituzione. Da cui il rapporto diretto viene meno, nel senso che la traduzione dei pattern di fotoni in dati rende disponibili questi dati per una serie di manipolazioni, miglioramenti, appunto in questi casi blending con determinazioni invece algoritmiche e così via, che costituiscono un tipo di immagine radicalmente nuova, non più tecnica appunto, ma tecnologica, per esempio, quel tipo di immagine che usiamo quando usiamo il nostro riconoscimento facciale, biometrico, il tipo di immagine che emerge, per esempio, nei deepfakes, tutte le tecnologie che utilizzano, guarda caso, gli stessi principi, gli stessi algoritmi della realtà aumentata dei social. Dunque, gli effetti di disguised reality possono essere considerati, come ho detto, un esempio di immagine tecnologica o di quelli che potremmo chiamare degli algoritmi visuali. Li chiamo algoritmi visuali appunto per sottolineare questa distanza rispetto alle immagini tradizionali e per far capire come l'aspetto di elaborazione algoritmica riveste un ruolo fondamentale nella costituzione delle immagini che, come ho detto, come è chiaro, sono, come dire, il risultato finale di un processo di trattamento e di elaborazione di dati in cui l'aspetto visuale entra solo all'inizio e alla fine. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è il fatto che queste immagini sono oggetti pratici. Partiamo anche qui da alcune stupidaggini, allegre stupidaggini. Alcune piattaforme usando questo tipo di tecnologia forniscono dei servizi in alcuni casi utili. Per esempio, per esempio, QVS Studio fa un'analisi e eventualmente vi manda anche un report più sviluppato della vostra faccia identificando i luoghi, diciamo, tutti gli interventi di chirurgia estetica che potreste fare o anche il tipo di cosmetici che dovreste usare. Per esempio, nel mio caso, è stata identificata una debolezza nelle occhiaie. Oppure altre piattaforme come Face++ offrono una, danno un voto al vostro aspetto, sia rispetto, diciamo, a una audience maschile, sia rispetto a una femminile, in maniera che, diciamo, scegliate le foto più adatte da caricare su siti di incontri, su siti di dating, o semplicemente per curare la vostra immagine sui social. Ora, al di là, ripeto, anche qui di questi usi un po' futili, ma non è anche tanto futili, come vedremo tra brevissimo. Questo tipo di software ha anche degli aspetti un pochino più inquietanti. Per esempio, il sito di indagine dell'Intercept ha individuato l'anno scorso dei memorandum riservati dei moderatori di TikTok, in cui costoro erano invitati a rispettare delle nuove regole e quindi a bannare, a nascondere, o comunque a diminuire drasticamente nei ranking algoritmici le facce brutte, cioè facce storte, mancanza di denti, anziani con troppe rughe, naturalmente, ovviamente fascial scares, ovviamente anche le cicatrici, oppure vari tipi di deformità. Questo tipo, cioè la bruttezza dovrebbe essere bandita anche mediante appositi algoritmi che usano evidentemente gli stessi principi degli algoritmi di face recognition di cui ho parlato prima. Ora, vi ho già fatto vedere questa questa mia valutazione per la verità più lusinghiera di quanto pensassi della mia faccia fatta da face plus, perché? Perché il motore di face plus plus, in realtà il creatore, è un'azienda cinese che si chiama Megvi, Megvi è un'azienda leader nel campo della face recognition che è stata diciamo accusata da Human Rights Watch di collaborare alla repressione della minoranza musulmana degli Uiguri da parte del governo cinese. Il governo cinese ha degli impianti sapete di videosorveglianza molto raffinati, una sorta di grande laboratorio internazionale insieme a Israele nella elaborazione di hardware e software per la videosorveglianza e in particolare alcuni algoritmi di face di riconoscimento facciale vengono usati sulla minoranza Uiguri. Questo discorso è stato abbastanza poi contestato perché l'azienda ha protestato contro questa società e ha ottenuto che Human Rights Watch facesse marci indietro ma indubbiamente Megvi collabora se non in maniera specifica su questa operazione e collabora nei processi e nelle procedure di sorveglianza del governo cinese. In effetti se pensiamo che in Occidente siamo esenti da tutto questo questo non è assolutamente vero. Le procedure di face recognition consistenti come sapete vi rinvio alla parte destra dello schermo consistenti nella cattura del pattern di fotoni appunto del volto di una persona nella detection di una serie di cioè di un pattern basato su alcuni punti chiave che sono stati individuati come punti chiave per distinguere una persona dall'altra e anche una razza dall'altra un sesso dall'altro eccetera eccetera poi da qui appunto un template che è esattamente identico a quello di una impronta digitale e da qui due possibili operazioni la verifica di un matching con per esempio una foto che è una foto già in possesso del database che è quello che succede quando la sliding door ci fa entrare uscire dall'aeroporto cioè ci fa entrare nel nuovo country in cui ci stiamo recando oppure la identificazione all'interno di database più ampi qualche volta come vedremo tra pochissimo molto ampi tutto questo viene usato in tanti ambiti cioè non soltanto nell'ambito della non soltanto nell'ambito appunto della della border and transportation security che è quello che ho appena citato ma nell'ambito della difesa nell'ambito della sicurezza in vari altri ambiti non a caso queste le le immagini che vi ho fatto vedere le ho tratte da un recente report presentato in agosto di quest'anno da di una di una agenzia federale americana che è il United States Government Accountability Office che dietro richiesta di un gruppo di congressisti ha dichiarato che 18 agenzie governative su 24 usano Facial Recognition Technologies e stanno sviluppando tecnologie di questo tipo e stanno implementando ulteriormente queste tecnologie con budget altissimi il grande protagonista di questo movimento si chiama l'avrete sentito Clearview AI è una piattaforma con una database di mi pare attualmente 3 miliardi 3 miliardi e mezzo di immagini desunte dai social e che offre i propri servizi e che si presenta così 19 Las Vegas Nevada A web services provider alerted authorities after a user received images depicting the sexual abuse of a young girl The only clue was an adult face visible in one image Investigators turned to Clearview AI Clearview AI is a facial recognition platform that contains more than 3 billion images from public internet It is used by law enforcement agencies to generate investigative leads Using this platform a potential match was found The suspect appeared in the background of an image Detectives were able to positively identify the man A search of his electronic devices revealed that he was creating child sex abuse material to share on the dark web The 7 year old victim had been under his supervisory control the man was arrested and the child victim was rescued Vado un po' veloce vi chiedo scusa ma Clearview ha contribuito anche massicciamente nel riconoscimento delle persone implicate nell'assalto a Capitol Hill ed è un'altra case history appunto che loro presentano come esemplare del loro contributo alla sicurezza del paese dunque possiamo dire che sta scomparendo stanno scomparendo i confini tra utilizzi mediali e utilizzi pratici delle immagini e delle tecnologie che non solo producono ma analizzano le immagini io parlo in questo senso parlo di una condizione post mediale cioè al di là dei media contemporanei e in questo contesto gli algoritmi visuali cioè il tipo di immagine contemporanea sono da considerarsi come degli strumenti come degli strumenti pratico operazionali tutto questo soprattutto quest'ultimo aspetto mi porta verso la diciamo così una possibile chiave di lettura di tutto questo noi possiamo considerare l'economia non solo in senso stretto come circolazione di merci e denaro ma in senso ampio come una circolazione regolata di risorse che appunto in chiave ecologica come si dice incidono su un ambiente un ambiente comune dunque come diceva giustamente Marx ogni economia è politica ogni circolazione di risorse determina interazioni con l'ambiente e conformazioni degli ambienti comuni condivisi dunque le immagini in questo contesto sono degli hub e degli snodi di circolazione di risorse in particolare propongo questa idea all'interno delle immagini contemporanee convergono tre tipi di risorse risorse iconiche visuali misurabili in pixel risorse luminose fanno parte le immagini cioè fanno parte da sempre ma in questo momento in maniera particolare di una economia della luce e immagini informazionali cioè dei dati e d'altra parte le immagini a partire da qui estraggono risorse di tipo immateriale per esempio risorse di tempo o risorse di prestigio per gli utenti estraggono risorse agentive la possibilità o meno di operare anche politicamente e estraggono risorse economiche grazie al grosso indotto del mercato dei big data allora arrivo dunque alle mie alle mie conclusioni sia perché Borsari mi manda il messaggino sì 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 e sia perché ho messo il counter e quindi vedo secondo per secondo passare drammaticamente il tempo dunque ho cercato di dire questo primo le immagini oggi non sono solo più delle pictures cioè degli oggetti visuali circoscritti da osservare a distanza le immagini oggi sono dispositivi pratici agiscono nel mondo agiscono sul mondo regolano flussi e scambi regolano accumuli e depauperamenti di risorse anche materiali anche risorse estremamente visibili appunto prima si parlava della logistica i processi logistici oggi sono sottomessi ai flussi di dati al controllo e alle geolocalizzazioni attraverso i dati e di conseguenza le immagini oggi sono strumenti di potere che giocano un ruolo fondamentale in questi processi non solo giocano un ruolo fondamentale ma fanno sì che ciascuno di noi e questo è il concetto che vorrei portarsi a casa ciascuno di noi gioca un ruolo fondamentale grazie a quei particolari dispositivi che sono diventate le immagini quindi da qui gli studi visuali dovrebbero a mio avviso questa è la proposta che faccio uscire un pochino dall'ambito giustissimo un pochino più astratto della semiotica dell'estetica e interrogarsi seriamente sulle valenze politico-economiche o economico-politiche delle immagini non solo in senso strettamente economico ma più ampiamente nella gestione delle risposte risorse comuni mi sono davvero grato per la vostra attenzione grazie a lei grazie a te per questa esposizione estremamente cara in cui ci hai messo a confronto con lo scenario di sfondo più ampio che era possibile sulla trasformazione delle immagini contemporanee come oggetti tecnologici oggetti pratici e come implicati in un sistema ecosistema ma economico-politico nei vari sensi che da ultimo ci hai indicato e con molta chiarezza anche visualizzati i problemi sia per la disciplina che per diciamo così la discussione pubblica per quel che mi riguarda posso solo annotare che l'idea di estetica come immagino l'idea di semiotica io sto cercando insieme a tutti gli altri del gruppo di lavoro di sviluppare qui è un'idea basata proprio sulla profonda connessione con la dimensione sociale culturale più ampia e anche economico-politica di questa ricerca e diciamo che gli sviluppi di quel mondo sul quale giustamente dicevi le immagini hanno un effetto ci impongono di considerarli di considerare con chi hanno diciamo ci hanno imposto l'attenzione alla connessione stretta tra sistemi percettivi dispositivi e anche il sistema economico-politico è inestricabile in esso o meglio litigamente lo si può comprendere ma è inestricabile in esso che la realtà ci ha imposto anche da questo punto di vista quindi grazie molte anche per la chiarezza adesso è invece il turno di direi teniamo segnatevi tutte le domande le eventuali obiezioni punti di discussione alla conclusione anche della seconda relazione della prima parte quella di Alessandro Arbo che lavora all'Università di Strasburgo e che ringrazio molto per aver accettato l'invito a presentare un ragionamento sulla musica nella docusfera ci spiegherà lui cosa intende poi con docusfera implicazioni estetiche e ontologiche cioè come cambia la nostra idea di estetica e della la natura di questi oggetti che attraverso la dimensione che noi abbiamo focalizzato come digitale in senso ampio questi oggetti assumono oggetti nel senso anche musicale anche in questo caso c'è un profilo articolato che abbiamo messo nel programma rimando a quello per guadagnare tempo e passerei subito la parola grazie anche a sì ecco è già caricato il powerpoint o quello che è passerei la parola a Alessandro Arbo prego allora grazie anzitutto spero che si senta bene ho riattivato il microfono dunque anche nel lo dico apertamente a cinque minuti dalla conclusione del tempo a disposizione ti segnalo in voce o con un messaggino che ci manca cinque minuti così ti regoli e non devi strassare prima parte grazie a te senti bene allora grazie per l'invito in questo interessante incontro dunque ho molto apprezzato anche questa prima comunicazione di Ruggero Eugeni e per certi versi la tematica che tratterò che tratta di oggetti abbastanza diversi però ritrova alcuni aspetti di quello che è stato detto dunque allora la musica nella docusfera in realtà parlerò soprattutto della performance musicale nella docusfera cioè della musica eseguita uso il termine performance perché è un po' più largo nel senso che quando si pensa all'esecuzione si pensa spesso all'esecuzione di un'opera che preesiste mentre l'idea di performance diciamo ci permette di includere anche forme di improvvisazione di musica che non è legata diciamo a tracce precedenti allora che la crisi sanitaria abbia messo a dura prova tutto il mondo musicale in generale e poi anche tutto il settore delle arti performative direi che è un dato che non ha proprio bisogno di essere dimostrato insomma per chi interpreta o produce spettacoli l'ultimo anno e mezzo è stato proprio un gran buco nero praticamente che ha inghiottito la maggior parte delle attività solo in parte compensate sul piano economico a seconda dei paesi degli aiuti statali e su un piano diverso la sospensione degli spettacoli dal vivo prima e quella che chiamerei diciamo la loro migrazione forzata nella rete poi hanno determinato sicuramente delle perdite diciamo abbastanza evidenti anche per il fruitore perdite che sono state spesso segnalate pensiamo diciamo proprio sul piano della percezione o più generalmente quello dell'esperienza che cosa voglio dire beh tutti noi lo sappiamo ascoltare o vedere la musica da casa non ha lo stesso senso che ascoltarla con gli amici in una piazza un teatro una sala da concerto ci manca si dice la sensazione di stare con gli altri la partecipazione all'evento diciamo tutti quei fenomeni che accompagnano la la resa della musica dal vivo ci si può chiedere però se assieme a questa perdita ci è dato registrare anche direi qualche aspetto se non qualche aspetto positivo almeno qualche novità in qualche modo degna di interesse riguardo alla produzione la diffusione e soprattutto la ricezione della musica live via le piattaforme più popolari penso naturalmente a youtube instagram instagram o facebook eccetera ed è la questione che vorrei pormi appunto alla quale vorrei tentare di fornire qualche elemento di risposta allora anticipando la mia ipotesi vorrei mostrare che questi fenomeni si accompagnano effettivamente ad alcune novità degni di attenzione in parte riconducibili a un aspetto molto generale ma non per questo meno cruciale della recente rivoluzione mediatica cioè il fatto che il web si presenta come ha osservato Maurizio Ferraris prima ancora che come un sistema di informazione o di comunicazione come un cappillare dispositivo di registrazione e di mobilitazione e questo è proprio legato alla produzione di documenti per questo ho parlato di o parlerò appunto di docusfera ma ogni cosa a suo tempo andiamo con ordine e incomincerai con richiamare alcuni aspetti considerati generalmente negativi allora diciamo assistere a uno spettacolo musicale a distanza davanti allo schermo del computer o del televisore o del tablet o dello smartphone è in genere considerata un'esperienza più povera rispetto a quella che possiamo fare in una sala di concerto quali sono le ragioni di questa impressione beh non è solo una questione di dimensioni sappiamo che le taglie se vogliamo dei televisori si sono considerevolmente aumentate in questi ultimi anni anche la proiezione su schermo non è più così rara a casa poi non si potrebbe neanche invocare quella che Locke e Hume avrebbero chiamato la vividezza della sensazione sappiamo che l'altra definizione la 4K offrono risultati spettacolari se paragonati a quelli che si potevano ottenere con un televisore fondato ancora sulla decodifica analogica oppure anche dal vivo voglio dire quando vedete Mark Knopf a 70-80 metri è una cosa quando vedete le sue mani scivolare sulla tastiera insomma con una ripresa ad alta definizione è un'altra cosa però vengono subito in mente altre carenze o defiance tecniche insomma naturalmente il fatto che il segnale è scarso l'apparecchio di riproduzione è sufficiente poco adatto eccetera che compromettono un po' la continuità della percezione dello spettacolo visto che appunto la tematica è quella della percezione in questo incontro e sono in generale dei mali direi rimediabili o che lo sviluppo tecnologico dei prossimi anni provvederà sicuramente a rimediare potenziamento delle reti l'ormai famigerata 5G l'incremento delle memorie vive dei dispositivi a velocità dei processori utilizzazione di ologrammi proiezioni trimestinali e quant'altro quello invece che alla tecnologia sembra più difficile da colmare e lo si ripete molto spesso è il senso della presenza che in una sala da concerto un teatro o una piazza continua ad assumere un significato abbastanza diverso accompagnandosi in misura più o meno importante all'idea di condividere proprio un ich et nunc come avrebbe detto già Benjamin negli anni negli anni 30 anche se il suo riferimento non era prevalentemente all'arte performativa ma piuttosto all'arte visiva la condivisione riguarda sia la performance se vogliamo come tale che il performer che l'esecutore ma anche lo spazio sociale emotivo e affettivo che li circonda appunto qualcuno potrebbe anche dire che si sente più vicino all'opera come teorizzava appunto Benjamin con l'idea di aura questo spazio auratico continuando in questa direzione potremmo dire che quello che perdiamo appunto è l'empatia il feeling della presenza il piacere di condividere le emozioni con gli altri senza dimenticare la concentrazione l'immersione in un suono che perlomeno in certi generi musicali siamo inclini a figurarci come intimamente diciamo associato a chi lo produce e sicuramente non è poco ma riflettendo insomma su queste carenze a parte il fatto che forme di empatia di concentrazione mi sembrano possibili anche davanti allo schermo di un computer però sottolineare eventualmente che tutto questo lo sapevamo già da tempo appunto da quando dai tempi della radio della televisione e poi del Walkman dispositivi che se non hanno direttamente favorito non hanno certamente ostacolato il generalizzarsi di forme di ricezione e di ascolto distratto ancora una volta mi vengono in mente appunto gli studiosi cioè voglio dire oltre a Benjamin Adorno che denunciava criticamente l'ascolto distratto è possibile che l'avvento del digitale la massiccia migrazione della musica nel web già visibili da un buon decennio e ulteriormente sollecitate dalla crisi sanitaria abbiano contribuito a confermare diciamo questo atteggiamento ma insomma bisognerebbe verificarlo anche se a prima vista questo giudizio devo dire che mi sembra fondato su un'eccessiva generalizzazione anche ammesso che molta più gente ascolta in modo distratto il fatto che nel passato la musica sia stata ascoltata in modo più concentrato resta tutto da dimostrare mi sembra normale pensare che sono sempre esistiti brani repertori persino interi generi musicali che si rivolgono ad un ascolto più o meno concentrato eccolo qua per esempio questo è un quadro che c'è nel museo Rivoltella vedete questi qui addirittura quasi disperati ascoltare in maniera così intensa questo violinista insomma mi pare che si chiami Beethoven questo quadro che dice già tutto insomma con un nome oppure ascolti ma insomma nel passato appunto questo ascolto più concentrato ma anche la Tafel Musique questo è un quadro di scuola napoletana invece insomma si vede che insomma questi si divertivano insomma poi c'è la musica da danza oppure se ci spostiamo appunto al mondo di oggi non so la musica di atmosfera questo qui è l'esempio più famoso di quello che si chiama lo-fi la musica che accompagna oggi spesso come dire lo studio il relax e che che comprende anche come dire dei suoni del passato dei suoni non direi non filtrati ma proprio filtrati con come dire come una sorta di memoria del passato il suono della cassetta il suono del vinile eccetera considerare il fatto che tutta questa roba qui funzioni da sottofondo come un segno di alienazione francamente mi pare esagerato però non vorrei entrare ulteriormente in questo discorso voglio dire che se è così è qualcosa che è sempre esistito ecco ecco il web mi sembra invece aver indotto altre importanti novità che coinvolgono sia il modo di concepire lo spettacolo sia il comportamento degli ascoltatori spettatori allora comincerei col descrivere più attentamente il fenomeno che ci interessa distinguendo queste due modalità di produzione via le reti telematiche quella nella quale i musicisti sono tutti assieme e il pubblico a distanza e quella in certo modo più radicale nella quale anche i musicisti sono a distanza tra di loro se poi pensiamo al luogo utilizzato per la produzione lì si potrebbero distinguere ulteriormente spettacoli realizzati in luoghi direi classicamente deputati come le sale da concerto i teatri le piazze dagli spettacoli domestici questo signore qua lo conoscete perché siamo cioè siete in Italia e quindi insomma Edoardo Bennato oppure quelli in luoghi più o meno simbolici insomma c'è stato anche questo come Ludovico Einaudi che questa elegia per l'Artico questo live fatto proprio con il pianoforte sul ghiaccio insomma su questi ghiacci che si stanno fondendo ecco per esempio in piena natura con anche con l'intento etico sullo sfondo in prossimità di monumenti edifici storici eccetera allora se ci teniamo la prima differenza che ho evocato cioè non quella di luogo ma il fatto che i musicisti possono essere diciamo tutti a distanza tra di loro oppure tutti assieme con il pubblico a distanza quindi il primo caso quello dei musicisti tutti distanti direi che è senz'altro il più rischioso perché moltiplica per il numero di musicisti e di connessioni la possibilità più evidente diciamo di un incidente nella trasmissione del segnale vi si aggiunge poi la difficoltà di superare quello che rimane proprio il principale ostacolo con il quale si misurano questi chiamiamoli tele-ensemble musicali cioè quello della latenza il problema della latenza è un problema noto che diciamo è l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui viene inviato l'input il segnale al sistema informatico e il momento in cui è disponibile effettivamente il suo output chi fa musica insieme conosce bene il problema di sincronizzare la produzione del suono di ciascuno è un problema diciamo tecnico elementare ma è fondamentale senza senza la soluzione di quel problema lì suonare assieme è praticamente impossibile ed è una necessità che si fa veramente impellente quando i musicisti sono particolarmente spazializzati o distanziati la sincronizzazione era conosciuta già dai tempi del se vogliamo del doppio coro veneziano però insomma con la distanza telematica diventa un'altra cosa ora nel caso della diffusione ottenuta tramite l'utilizzo diretto direi delle piattaforme più comuni questa sincronizzazione che per diventare effettiva deve superare la barriera dei 20-30 millisecondi diventa praticamente impossibile data la scarsa o non sufficiente velocità di risposta del sistema gli ingegneri informatici hanno fatto e stanno facendo ancora tuttora di tutto per elaborare programmi che permettano di aumentarla o compensarla e penso appunto ai programmi che indico qui Soundjack e gli altri che richiedono un grado abbastanza diverso di abilità tecnica poi nella gestione i progressi sono considerevoli anche se la soluzione ideale non so se è stata ancora trovata comunque se vi interessa ho trovato dunque c'è un 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 canale molto interessante questo cellulari.it curato da Federica Bressan nel quale un episodio è interamente dedicato a questo problema della della latenza e queste possibilità offerte dai dai programmi dalle applicazioni specifiche per chi suona si tratta comunque di una opportunità interessante insomma dunque nello stato attuale comunque molto spesso i musicisti che si producono a distanza privilegiano la registrazione e costruzione di un video che poi è diffuso indifferita la soluzione che permette di correggere proprio questi errori di sincronizzazione e poi di equilibrare i suoni valorizzare le immagini eccetera eccetera sempre tenendoci alla prospettiva diciamo del musicista che si produce si può venire all'altro caso quello appunto dove tutti i musicisti sono assieme e il pubblico si trova a distanza un fenomeno come dire di diffusione che si è prodotto a partire dal dall'avvento diciamo del web due cioè la tecnologia del web interattivo quella che ha visto nascere youtube e i social eccetera che ha evidentemente largamente preceduto questa crisi pandemica ha fatto oggetto già di diverse riflessioni e soltanto per richiamarvi semplicemente tra le altri diciamo approfondimenti questo fascicolo che ho avuto la fortuna diciamo di curare assieme a Fabrizio Desideri sull'estetica dello streaming oppure questo ultimo fascicolo di De Musica che raccoglie gli atti di un convegno che abbiamo organizzato a Strasburgo due o tre anni fa che era proprio pensare la musica all'era del web e che tratta anche di tutte queste diciamo di questa riconfigurazione di tutto in sostanza strategie di vendita di promozione il passaggio se vogliamo da quella che era stata chiamata l'era del disco della cassetta o del download appunto all'era dello streaming in sostanza allora la pandemia ha sicuramente ulteriormente incrementato questo questo fenomeno molti musicisti soprattutto diciamo nel genere classico ma anche nel jazz che non avevano preso in seria con considerazione questa opportunità sono stati indotti a farlo nell'ultimo anno e mezzo allora lì si parla diciamo a quei concerti da casa molti dei quali solidali organizzati durante il primo lockdown ma poi anche a numerosi concerti live in streaming organizzati in seguito ma penso anche a più in particolare i gruppi semiprofessionali o amatoriali insomma che si sono prodotti appunto a distanza da casa per i quali gruppi o artisti per i quali a performance a distanza costituisce un importante canale di diffusione considerato anche il carattere prevalentemente gratuito dei servizi offerti dalle piattaforme e si tratta in realtà di una gratuità che ha una solida e anzi ben superiore contraparte e di quello che vorrei mostrare ora allora questi aspetti diciamo sono comunque sono aspetti di novità importanti hanno fatto l'oggetto di numerosi approfondimenti ne cito due soltanto perché li conosco più da vicino appunto un gruppo di lavoro di strasburgo del nostro laboratorio del centro di ricerca e sperimentazione sul lato artistico c'è un gruppo che si occupa specificamente di questo problema diciamo della musica e dell'intermedialità nello spazio cibernetico e ho l'osservatorio interdisciplinare di Montreal che anche ha dei progetti specifici che sono concentrati sullo studio della musica in tempi di pandemia però insomma questo workshop è anche la prova che in Italia appunto questo interesse è vivo e appunto ci si sta concentrando appunto su questi temi in termini più essenziali credo che valga la pena mettere a fuoco un aspetto generale che cambia o che caratterizza il cambiamento di scena che cosa succede quando un musicista o un gruppo si produce in streaming allora forse la prima risposta che ti viene in mente e che raggiunge un pubblico potenzialmente più grande di quello di una sala da concerto prescindendo dall'evidente difficoltà di trasformare diciamo questo potenzialmente in un attualmente se fosse così diciamo tutti sarebbero famosi possiamo considerare che lo streaming aumenta quello che diciamo Benjamin aveva chiamato il valore di esposizione del prodotto artistico questo incremento del valore di esposizione è abbastanza evidente e vale sia nel tempo che nello spazio in qualche modo lo spazio fisico di una sala di concerto diventa un immenso spazio cibernetico il tempo ridotto frangente del concerto diventa il tempo illimitato in cui potrà essere riveduto e riascoltato è in questa direzione che si identifica uno dei principali valori aggiunti dello spettacolo prodotto nei teatri nelle sale di concerto vuote ma anche frequentemente da un luogo domestico e diffuso a distanza via le piattaforme che conosciamo come si spiega questo valore il punto cruciale è che il web si presenta prima che come un grande apparato di comunicazione e di informazione come un grande dispositivo di registrazione e questa è una tesi appunto sottolineata è fatta valere con grande come dire abilità e grande capacità di approfondimento da Maurizio Ferraris dunque il web registra e genera potente forme di steresi cioè accumulo progressivo di come dire di dati di capitalizzazione di registrazioni che hanno una loro storia un video si può guardare e riguardare magari concentrandosi su un punto o sull'altro si può condividere si può commentare si può ripubblicare eccetera eccetera si entra in quel complesso sistema reticolare che qualcuno ha definito rizomatico con riferimento al noto concetto di Deleuze-Gattari che è appunto il web e si trova ad assecondare in misura più o meno evidente le tendenze tipiche della cultura cibernetica come appunto la ricorrenza e l'interconnessione viene così a determinarsi oltre che un'inedita dislocazione delle opere della performance dai luoghi deputati come le sale del concerto a ogni sorta di luogo una nuova straordinaria produzione di tracce ogni evento si trasforma in un atto registrato che sollecita a sua volta la produzione di altri documenti generando così un plus valore che è opportuno appunto prendere in considerazione allora vado un po' rapidamente dunque anzitutto bisognerebbe dire in questo caso si parla di registrazione più specificamente di registrazione musicale e la registrazione musicale si trova sempre in qualche modo divisa tra due tra due funzioni insomma no? cioè la funzione che è quella di documento in questo caso la registrazione è un concerto ritrovato di Fabrizio e Andrè e la registrazione vale come il documento di quello che è avvenuto in quel momento lì e dall'altra parte la registrazione è come costruzione di un come dire di un'unità che è in questo caso il pezzo dei Beatles è scritto ma più che scritto appunto registrato mixato e finalizzato in studio montato pezzo per pezzo ecco la registrazione li funziona appunto come costruzione ecco la registrazione si trova sempre un po' a oscillare tra queste due funzioni e se vogliamo con la comunicazione precedente abbiamo visto fino a che punto ormai con il web ci si sia spostati dalla funzione di documento alla funzione costruzione qualcuno che ha il microfono aperto sì infatti scusate prego scusa Alessandro ma era fastidioso meglio lasciarti un modo di sentire bene bene per chi volesse approfondire abbiamo dedicato un gruppo di lavoro alcuni anni fa appunto nel Graham nel nostro gruppo di ricerca di Strasburgo a questa tematica appunto sul come la registrazione ha cambiato un po' anche i destini della musica proprio attraverso questa sua funzione di documento Roger Puivemio collega e amico appunto dell'università di Nansia ha dedicato le pagine interessanti nella quale appunto la registrazione si trova sempre a oscillare un po' tra questi due poli dopo dopodiché si può dire anche che la registrazione è registrazione di un evento singolo e quindi la funzione documento riguarda l'interpretazione delle opere ma anche la musica nella quale non c'è un'opera preesistente penso appunto alle musiche improvvisate diciamo dove la funzione prevalente prego sì dunque dove la funzione prevalente è quella appunto del documento ora la performance diffusa via le piattaforme di streaming si accompagna sempre come dicevo appunto a una forma di registrazione che costituisce in senso e finette la produzione del documento e la sua e questo è importante la sua proiezione temporanea e il sistema di sistemazione ipermediati c'è qualche microfono aperto in sala risento la mia voce e quindi probabilmente viene eccolo perfetto allora più precisamente la riproduzione più o meno fedele della performance dà vita a un oggetto tecnico iterabile analizzabile che in quanto tale riflette anche un valore aggiunto si tratta di un valore aggiunto in primo luogo per i musicisti perché il musicista incrementa come abbiamo detto il suo uso da parte di un numero più elevato di utenti dunque poi ci sono i servizi a pagamento i servizi gratuiti voglio dire che se il musicista è professionale utilizzerà i pay per view o se invece lo è di meno o anche comunque se vuole utilizzare i servizi più larghi diciamo facebook youtube eccetera anche se non gli apporteranno delle grandi retribuzioni gli permetteranno comunque di aumentare la cerchia di uditori quindi un ritorno evidentemente c'è ma se l'analisi di ferraris che non si è occupato affatto di musica però la situazione è la stessa cioè voglio dire ci troviamo in questa isteresi del web con il caso specifico della performance musicale se l'analisi è giusta questo incremento di valore l'incremento di valore per colui che ha immesso queste informazioni non è affatto paragonabile a quello che invece è registrato dalle piattaforme l'azione del musicista ecco potremmo dire il valore aggiunto per il musicista è molto piccolo rispetto al valore aggiunto per la piattaforma che cosa c'ha da guadagnarsi e beh si innesca un meccanismo di immobilitazione che permetta alla piattaforma di capitalizzare un valore molto più elevato e quale è il valore beh pensiamo che voglio dire nel momento in cui viene immesso un documento poi questo documento è visto da tanti altri e la piattaforma sa quali altri con quali gusti in qual momento naturalmente tutto questo in funzione diciamo assolutamente come dire di algoritmica cioè con delle macchine che comunque come dire permettono alla piattaforma di come dire di avere un potere sempre più grande in qualche modo la sedimentazione di fiumi di informazioni che sono molto preziose in altre parole l'azione del musicista permette di innescare un meccanismo di mobilitazione che appunto permette alla piattaforma di capitalizzare un valore molto più elevato ecco l'ingresso dello spettacolo dal vivo nella docusfera può essere compreso docusfera proprio perché è una produzione di documenti essenzialmente può essere compreso alla luce di questo fenomeno generale che riguarda probabilmente tutti gli eventi culturali il prodursi di un plus valore documediale che per il momento va a finire nelle tasche dei proprietari di piattaforme la proposta avanzata da Ferrari di un web fair è senz'altro una buona soluzione ma come dire per essere sinceri a meno che i governi non riescono a imporre in tempi ragionevoli una tassa ai giganti del web invece che ai suoi utenti sembra al momento abbastanza utopica allora chiudo ancora con un aspetto che forse interesserà di più questo seminario perché per il momento ho messo in evidenza un in più su un piano se vogliamo ontologico ed economico c'è un in più per l'esperienza è possibile identificare di là dagli aspetti economici e ontologici se vogliamo un guadagno sul piano dell'esperienza penso di sì allora comincerei con menzionare il più evidente vado veloce perché mi è appena arrivato credo il messaggio per gli ultimi miei cinque minuti allora la prima cosa è talmente evidente al punto da non farci caso l'esperienza si moltiplica semplicemente possiamo condividere e prendere parte ad eventi ai quali altrimenti per mille ragioni non avremmo potuto partecipare quindi malgrado tutto come dire quello che constatiamo anche nel mondo professionale di là dalle imperfezioni dagli sgradevoli incidenti nei quali possono incorrere gli utenti ne abbiamo visti un certo numero anche divertenti sul web le riunioni a distanza sono pur sempre delle riunioni e così diciamo le performance insomma in qualche modo qualcosa qualcosa passa e previa una buona motivazione un buon segnale seguire i concerti possiamo seguire i concerti ai quali non avremmo mai sperato di poter assistere dal vivo sembra banale sembra evidente ma è un punto comunque sicuro insomma c'è un piccolo vantaggio sicuro un altro punto mi sembra riguardare l'interazione musicista pubblico allora si è tanto insistito sul fatto appunto l'ho detto all'inizio manca la presenza manca il contatto col pubblico manca il feeling l'empatia se il musicista perde il contatto diretto con il pubblico guadagna forse altre forme di interazione mi riferisco a quelle che si determinano con lo svolgersi contemporaneo di una chat sappiamo abbiamo imparato a usare questo strumento appunto nelle riunioni e nelle lezioni ma come è noto funziona anche nel caso dei concerti il musicista qui sta eseguendo e sfila a destra una chat appunto che è un'occasione di scambio di espressione di opinioni poi insomma è il segno di una presenza effettiva di qualcuno che ascolta chissà dove chissà in quali circostanze generando qualche volta delle forme di relazione solidale qualche volta sappiamo che non va sempre così bene poi si può andare dall'insulto alla relazione solidale come il solito nel web c'è un po' di tutto però osserviamo insomma l'ascoltatore esce da quel ruolo in qualche modo più passivo di ricettore attento certo ma pur sempre ricettore e non attore escluso il momento finale dell'applauso che aveva in passato può intervenire commentare lodare sostenere ma naturalmente criticare esprimere perplessità ma io ho l'impressione ecco beh certo sappiamo quanto il web abbia favorito il diffondersi sia di stupidaggini che di eccessi verbali insulti offese turpiloqui e quant'altro però ho l'impressione che il fatto di interagire a un evento dal vivo e qui è proprio il punto un concerto predispone l'uditorio a una dico una certa moderazione forse perché è più difficile pararsi dietro l'anonimato insomma in qualche modo se uno interviene ci sono altre persone che stanno lì ad ascoltare e che possono reagire immediatamente non è come il sasso lanciato nello stagno che è costituito qualche che è un po' come dire il commento che si fa sui video di youtube che qualche volta è altro che sasso è una pietra pesante insomma infine appunto poi c'è questo ecco e quindi diciamo questo aspetto mi sembra abbastanza importante questo spilare della chat che dà qualche cosa del senso di presenza c'è ancora un ultimo aspetto importante credo il fatto che una live stream oggi appare nel mondo dei social e nel mondo delle piattaforme più autentica in qualche modo cioè quando andiamo a un concerto beh è evidente abbiamo la prova vivente che il musicista è in grado di fare quello che fa a meno che non stia cantando in playback ma in genere la cosa è facile da reperire e la situazione è molto diversa quando visioniamo un video su youtube o su facebook sappiamo benissimo quale potere di costruzione e manipolazione si annida in questo genere di prodotti un computer anche non troppo sofisticato uno smartphone anche di una certa qualità possono realizzare favolose operazioni di rifinitura correzione e montaggio tutto questo intendiamoci non ha niente di scandaloso nella misura in cui si accetta l'idea diciamo che un video musicale possa costituire come il caso delle opere fonografiche il risultato di una costruzione video fonografica appunto ottenuta grazie all'impiego della tecnologia quando però si tratta dell'esecuzione di opere scritte oppure della resa di un'improvvisazione questi due casi che ho enumerato appunto prima allora il quadro cambia perché nelle aspettative dell'ascoltatore spettatore c'è il fatto che il musicista sia in grado effettivamente di eseguire quello che stiamo ascoltando e quale migliore prova di quella fornita da un live streaming malgrado tutti i problemi gli incidenti che possono capitare se ci atteniamo all'ipotesi che la percezione musicale è in buona parte almeno una percezione categoriale questa opzione manifesta nel mondo digitale un valore direi estetico aggiunto perlomeno riguardo all'atto performativo e quindi ecco le mie conclusioni in questa paginetta se possibile per sintetizzare direi che la performance musicale live online si accompagna alla produzione di un plus valore dovuto alla trasformazione dell'evento in documento plus valore del quale solo in minima parte beneficiano prevalentemente in forma promozionale ma anche con guadagni reali quando il numero di visualizzazione è importante i musicisti sul piano ma invece beneficiano soprattutto le piattaforme sul piano dell'esperienza se la mancanza della copresenza in un luogo deputato può costituire un ostacolo insomma in qualche modo all'empatia e alla concentrazione la migrazione dello spettacolo dal vivo nel web genera esperienze di ascolto che integrano nuove forme di interazione con il pubblico l'utilizzo del live streaming infine determina il deposito di un importante numero di registrazioni documento registrazioni con funzioni di documento che assumono nel mondo dei social un singolare nuovo significato di autenticità ecco e con questo concludo mille grazie grazie molto Alessandro Arbo anche lui con grande chiarezza ha sostenuto una tesi ci sono i battimani del pubblico ringrazio non vi ho sentito ma vi credo erano visibili sulle immagini detto questo grazie e sono molto grato a Arbo per averci esposto a un problema così complesso delle trasformazioni legate allo streaming in particolare della musica ma non solo io direi che abbiamo preso un po' più di tempo del programma che ci avevamo dati ma possiamo io darei ora la possibilità a tutti quelli variamente collegati nelle aule e online di intervenire se hanno delle richieste di chiarimento se vogliono porre dei problemi ai nostri relatori poi abbiamo detto che vogliamo riuscire a fare una pausa prima del blocco successivo ma diciamo tenendo fermo tra un quarto d'ora possiamo fare la pausa direi intanto raccogliamo le domande c'è la manina che si può alzare in questo dispositivo se qualcuno vuole chiedere in aula online da qualche parte tu Valentina prego mi sentite? beh allora innanzitutto vorrei ringraziare entrambi i relatori perché sono state veramente come poi ha detto anche Andrea due relazioni relazioni chiarissime interessantissime e super stimolanti infatti insomma adesso veramente velocemente due punti avrei una una questione a Eugenio una questione a Darbo proprio per non togliere tempo anche anche alle altre rispetto alla relazione di Eugenio quello che sostanzialmente è stata soprattutto la parte finale o meglio in realtà è stato tutto il corso della relazione che mi ha stimolato in realtà una domanda alla quale abbiamo perso Valentina mi spiace non ti sentiamo ripeti una domanda e si è fermata lì è una domanda che non so insomma se ha una risposta definitissima però ecco quello per me è il nodo poi della questione forse anche provenendo da formazione di filosofia politica il punto è politico nel momento in cui insomma vengono definite le immagini come strumenti di potere e si definisce anche giustamente mi pare che ciascuno di noi contribuisce a creare proprio questa insomma questo insieme di relazioni che tra l'altro mi sembra renda molto bene anche quella che è un'immagine del potere proprio di tipo cultiano relazionale e quindi si riconosce proprio quella che è la valenza economico-politica delle immagini e allo stesso tempo come lei ci spiegava anche con tutti quelli che sono le applicazioni insomma i dispositivi di riconoscimento facciale si riconosce quella che è un'ambivalenza cioè la possibilità che questi strumenti vengano impiegati per fini utili lo scoprire lo scoprire chi è stato fondamentalmente l'autore di un abuso sessuale ma anche come strumenti di sorveglianza di controllo quindi lei alla fine chiamava fondamentalmente a un utilizzo critico anche di quelle che sono una serie di piattaforme di strumenti digitali ecco di realtà aumentata o comunque insomma come lei ha spiegato molto bene ora io quello che mi chiedo è qual è l'aspetto critico come si può agire in maniera critica rispetto dato questo quadro cioè qual è penso che per esempio proporre un semplice boicottaggio di questi strumenti sarebbe alquanto riduttivo quindi come dovremmo agire proprio per sicuramente riconoscendo anche quello che è il nostro potere all'interno di queste relazioni il nostro contributo nella creazione delle immagini proprio come strumenti di potere e dall'altra parte invece rispetto alla relazione di Arbo ascoltando la relazione mi sono diciamo sempre più convinta e forse insomma anche potrebbe essere riduttivo però mi pare che quello che mi viene da dire a me è che quella che è la fruizione dal vivo dello spettacolo in presenza mettiamolo così e la fruizione attraverso la mediazione di quella che è una piattaforma siano quasi difficilmente paragonabili nel senso che siano proprio due due categorie che certo sono paragonabili per il fatto che soprattutto nell'ultimo anno e mezzo si è cercato in tutti i modi di sostituire per necessità chiaramente il primo alla seconda quindi la fruizione attraverso la mediazione quindi di una piattaforma io sono assolutamente d'accordo con lei quando lei elenca tutti quelli che sono i vantaggi vabbè anche insomma le difficoltà o comunque le cose da prestare attenzione i vantaggi che possono derivare dall'accesso fondamentalmente dello spettacolo dal vivo in digitale quindi anche per esempio quella che è l'ampliamento la possibilità di una maggiore accessibilità allo spettacolo anche tutti quelli che sono i miglioramenti da un punto di vista la fruizione l'unico dubbio che a me rimane è un dubbio chiaramente aperto anzi sono due uno è se ci sia ed è una domanda in realtà non è un dubbio è se ci sia un apprendimento necessario anche per fruire dello spettacolo in digitale cioè sostanzialmente se questa mancanza che noi sentiamo dello spettacolo dal vivo sia legata proprio al fatto che non siamo abituati a vivere l'esperienza della performance con una certa distanza con la mancanza di un determinato pubblico di fianco a noi quindi come in quanto spettatori per esempio con tutte delle proporzioni spaziali anche che sono completamente modificate quindi una questione da un lato di apprendimento se ci sia e dall'altra parte il dubbio invece che mi riguarda secondo me è quello della riproducibilità dello spettacolo che lei poneva sostanzialmente come una questione positiva se non ho se non ho colto male ecco a me pare invece che nel momento in cui uno spettacolo viene diciamo registrato quindi entra fondamentalmente nella docusfera ecco questo faccia perdere quella che è proprio la possibilità dell'imprevisto che è legata allo spettacolo soprattutto per quanto riguarda la fruizione quindi io mi rendo conto della registrazione nel senso ritrovare a distanza di tempo il concerto perso di De André ha un valore che è un valore di un certo tipo quindi di un imprevisto è quello stessa cosa che crea l'imprevisto il fatto di vedere uno spettacolo che non è dal vivo ma è stato registrato quindi è lo spettacolo che è stato ottenuto qualche giorno fa e io lo vedo in registrazione poi successivamente è chiaro che mi toglie quella che invece è quella possibilità dell'imprevisto che ho nello spettacolo invece nella fruizione dal vivo non mediata da una piattaforma ecco quindi questo secondo me comunque è un nodo centrale che non consente di paragonare i due aspetti grazie benissimo grazie io sentirei un attimo se c'è qualcun altro che ha delle domande anche veloci di chiarimento così le raccogliamo se non c'è nessuno o intanto che ci pensate magari possiamo riprendere anche dopo la pausa e farle confluire nelle domande finali io avrei due domandine proprio di maggior comprensione di quello che è stato proposto una a Eugenio chiederei se per cortesia può dare qualche linea di sviluppo di quell'accenno che ha fatto sulla maschera che mi sembrava molto interessante anche se in parte sull'essere travisati come dice il disguice che metteva vedere un po' questo problema collegato alla manipulazione delle immagini ma anche in generale sarebbe interessante visto la pervasività dell'oggetto a vario titolo che la maschera ha assumuto nell'ultimo anno in particolare ma già aveva come in una serie di campi che adesso non sto elencare a Argo invece chiederei due domandine in chiave se per cortesia può spiegare più estesamente la nozione di isteresi del web che è legata alla definizione che lui ha dato mi sembra di un ruolo centrale e anche gli chiederei di illustrare meglio quel nesso aumentato valore meglio nel senso di più ampiamente la comprensione del discorso ovviamente ha reso necessario dei raccorciamenti e dimostrare più ampiamente la connessione tra valore estetico e aumentato e autenticità nella performance dal vivo registrata online cioè streaming online scusate registrato però diverso è molto interessante sentire cosa risponde adesso a Valentina se non ci sono altri chiederei di dare risposta a questi primi quesiti che gli altri ci pensano molto rapidamente cioè per battute lo chiediamo e cominciamo da Eugenie che era stato il primo prego certo sì sì sarò molto veloce sulla questione della critica ti ringrazio dalla domanda Valentina è cruciale darò soltanto qualche cenno a mio avviso un atteggiamento critico oggi deve essere un atteggiamento diciamo post ideologico quindi tale da diciamo non cercare formule semplici e quindi anche diciamo così positivo ecco fucoltianamente quindi attento ai fenomeni empirici dal mio punto di vista che è quello di una provenienza semiotica questo vuol dire anzitutto individuare le retoriche che che presentano i fenomeni per fare due esempi uno è la retorica della creatività che è quella che ho presentato un'altra è la reatorica della gentività degli algoritmi che secondo me sono retoriche pericolose perché in entrambi i casi tendono a occultare i veri centri di responsabilità delle logiche effettivamente operanti seconda risposta ad Andrea sì il tema della maschera chiaramente centrale ci potrebbe portare molto lontano do soltanto qualche elemento molto veloce allora due punti primo primo due punti che in realtà sono anche vicini ai lavori che tu hai fatto allora primo punto primo punto che cosa cambia nella maschera contemporanea la maschera contemporanea adesso lo dico scusate in maniera un po' slogan non è apparizione ma è visualizzazione cioè la maschera come tutte le immagini non corrispondono più ad una logica dell'apparire della diciamo così appunto del fenomenizzarsi o anche dell'epifania del reale ma rispondono ad una logica di traduzione pratica pragmatica di dati in fotoni in immagini che hanno poi dei una rispondenza anche tecnologica precisa la tecnologia OLED si lega proprio a questo cioè i LED organici che sono quelli delle nostre televisioni rispondono esattamente a questo tipo di logica della visualizzazione che è una logica diversa da quella dell'apparizione che segna secondo me il confine tra immagini tecniche e immagini tecnologiche l'altra pista e su questo sono veramente rapido l'altra pista porterebbe in realtà a passare da una diciamo così da una riflessione semplicemente sulla maschera ad una riflessione sulle superfici su che cosa sono diventate oggi le superfici a partire da una pan visualizzazione e quindi certamente il tuo amato Simmel ci è molto utile come punto di partenza per ripensare il discorso della superficie anche del discorso sulle superfici a partire da un contesto diciamo così di mediascape grazie scusate la velocità benissimo perfetta anche la concisione Alessandro per cortesia eccomi qua allora dunque entrambi dunque le questioni o la quadruplice in questione tutto interessante allora due realtà diverse non comparabili sono abbastanza d'accordo cioè effettivamente è un'altra cosa assistere a uno spettacolo live davanti a una piattaforma che ci sia un apprendimento che ci sia sicuramente sì come impariamo come dire a reagire in maniera diversa come 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 dire quando abbiamo imparato la prima volta a toccare diciamo lo schermo che reagiva diciamo digitale insomma mentre un bambino oggi lo fa automaticamente perché è abituato fin dall'inizio mentre se lì si mette davanti un giornale toccherà sulla notizia del giornale non succede niente non si apre la scheda voglio dire sono reazioni pratiche che uno impara e così impara anche probabilmente questa interattività nuova che deve essere come dire lo spettacolo live stream insomma c'è anche anche lì voglio dire la reazione il dialogo con gli altri spettatori via la chat eccetera sono nuove forme non lo so effettivamente se possono essere semplicemente pensate in totale continuità con quello che era lo spettacolo dal live più 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 tradizionale allora sull'effetto sorpresa quella è effettivamente una una discontinuità importante però mi pare che così voglio dire da un lato ecco un'esecuzione musicale è un po' come una partita di calcio cioè voglio dire se sappiamo già il risultato uno dice uno non sta magari non la guarda nello stesso modo ma nel d'altro lato come dire c'è una discontinuità anche tra i due fenomeni cioè una musica anche se effettivamente come dire l'abbiamo già ascoltata o la conosciamo o sappiamo che il concerto c'è già stato ci incuriosisce dello stesso cioè voglio dire il fatto di andare a vedere cosa fa quel musicista e cosa ha fatto dal vivo quella sera può essere ugualmente come dire una curiosità che corrisponde poi a un effetto sorpresa anche perché a meno che non ci sia stato qualcosa di così scandaloso che tutti lo sanno e a questo punto quando andiamo a vederlo ce lo aspettiamo già in generale non lo sappiamo no cioè voglio dire andiamo a vedere lo spettacolo dal vivo che è stato registrato noi ci siamo svegliati alle 8 di mattina alle 7 alle 8 voglio dire lo spettacolo era non so in un altro paese durante la notte avevamo voglia di alzarci durante la notte e per noi di mattina è come se fosse una live stream insomma voglio dire la differenza lì è relativa però ed è relativo anche il fatto che nell'ascolto musicale la ripetizione assume un ruolo è un po' diverso poi c'è anche quello che si riguarda la partita però lo fa appunto con un significato abbastanza prossimo a quello del concerto musicale cioè si riguarda perché con un senso estetico quasi cioè voglio dire vediamo un po' guarda che bel gioco guarda cosa è riuscito a fare guarda eccetera eccetera no quindi è vero l'effetto sorpresa si perde in parte ma direi che non completamente poi non è la variabile proprio forse più importante nel nel pensare quello che può fare perché proviamo a metterci dalla parte di un musicista musicista che fa una live stream che funziona che poi magari non funziona nel senso che ha suonato male o ha steccato o ha fatto qualcosa e voglio dire si sente esposto esattamente come il musicista in quella sala di concerto forse anche di più in qualche modo cioè il mettersi in gioco c'è da parte del musicista da parte del pubblico c'è anche come dire un'attesa diversa se io so che quella è giusto un video che è stato costruito in un momento dato mi aspetto che il musicista ha cercato di fare il meglio possibile nei momenti in cui andava di farlo insomma se so che è un live so anche che può succedere di tutto insomma esattamente come in un concerto quindi non vedrei proprio una completa discontinuità sono due fenomeni diversi ma insomma si può ancora parlare effettivamente di esecuzione live secondo me allora poi dunque sull'isteresi bisognerebbe chiedere più nel dettaglio a Maurizio insomma Maurizio Ferraris però io posso dirvi questo e quel fenomeno allora se ne parla soprattutto da dove viene dalla fisica per esempio nelle discipline scientifiche si parla di stersi non so se nelle scienze sociali si usa molto questo termine però pensate a questo fenomeno elementare la goccia che fa travocare il vaso cioè voglio dire una goccia da sola non fa niente è un fenomeno che non produce effetti particolari due gocce tre gocce poi con l'accumulo di tutte queste gocce fa sì che il vaso è pieno e a quel punto arriva la goccia che fa travocare definitivamente c'è questa discontinuità cioè si produce un fenomeno nuovo grazie a un accumulo di piccoli fenomeni ciascuno dei quali come dire può apparire relativamente rilevante ma è grazie a questa capitalizzazione che si produce un fenomeno nuovo allora cosa succede nel caso della performance sul web e beh guardate uno suona e fa il concerto poi voglio dirle questo si trasforma subito in documento perché viene appunto registrato e produce 10-20 visualizzazioni poi c'è quello che ne produce 16 milioni e c'è quello che arriva a 7 miliardi di visualizzazioni non è per una cosa live però come sapete per esempio Despacido ha fatto 7 miliardi di visualizzazioni su youtube ecco questo è un fenomeno che cosa sono queste visualizzazioni sono a loro volta dei documenti perché la piattaforma ricava informazione da colui che ha visualizzato quello ha visualizzato 10 volte quello 100 quello gli piace di più quello gli piace di meno quello in ogni caso come dire glielo rilancio sulla forma come dire di consiglio di raccomandazione eccetera in ogni caso come dire si tratta di un aumento esponenziale del flusso di informazione che diventa da solo come dire un fenomeno diverso cioè questo accumularsi di piccole informazioni che sembrano irrilevanti determina la formazione di un oggetto sociale completamente diverso quella che all'inizio era una semplice performance che magari pensate alla registrazione tradizionale cioè voglio dire quella andava a un concerto si registrava con la sua cassettina tornava a casa ah che bel me lo riascolto e fine insomma posso anche riascoltarlo mille volte ma sono io che lo riascolto eventualmente la presto a un amico tutto questo resta abbastanza invisibile tutto sommato lì invece è tutto visibile registrato archiviato diffuso moltiplicato e questa è l'istituzione in sostanza ecco e poi ultima cosa l'autenticità scusate la lunghezza ma mi è difficile spiegare proprio in due parole l'autenticità e come dicevo dunque se c'è un live stream il musicista è lì che si sta producendo bene o male mentre se è un video che è stato costruito si menzionava prima appunto i modi di modificazione di costruzione dell'immagine figuratevi coi suoni voglio dire siamo nella stessa sulla stessa lunghezza d'onda e anzi insomma cioè voglio dire ormai un computer può modificare tutto insomma allora c'era una bella comunicazione a Strasburgo era venuta Lisa Giombini mi pare che aveva portato un esempio molto simpatico cioè si vedeva diciamo un musicista che si produce e che sta registrando una traccia vocale su una base ecco questa traccia vocale è manipolata ci sono i famosi plugin che permettono di modificare riverberare e poi lui l'aveva aggiustata quindi un po' con un programma si chiama autotune aveva modificato l'intonazione insomma è uno spettacolo lo vedete proprio e dopo c'è la stessa traccia però questa volta come dire tolta la base e tolte le manipolazioni ed è una una cosa spettacolare perché se lo sentite voglio dire viene subito da ridere perché uno dice ma questo è completamente stonato voglio dire fuori ritmo stonato sgradevole la voce cioè vuol dire una cosa appunto completamente improponibile e tramite la manipolazione si è fatto tutto il resto il mondo come sappiamo dei social è questo è il mondo in cui si costruisce si manipola si costruisce delle facce più belle meno belle eccetera eccetera dove si calcola dove diventa un oggetto appunto tecnico e con funzione pratica sono d'accordo e in mezzo a tutto questo anche nel live stream ci sono delle possibilità ma sono più ridotte in qualche modo il musicista è lì e suona e quel che fa fa e se non fa non fa voglio dire ci sono performance più o meno riuscite ci sono gruppi che magari si producono a tempi che sono prodotti in più dirette e alcune sono notevoli altre insomma anche i commenti che si vedono i commenti sono più severi ma giustamente perché la performance è meno riuscita ma fa parte appunto è il bello della diretta insomma e questo è comunque insomma un piccolo segno di autenticità per questo dico una percezione categoriale perché quando noi in qualche modo sappiamo che quell'evento certo è registrato ma è stato registrato in una live è una cosa diversa da quando sappiamo che invece con calma il musicista se l'è costruito a casa e ha ci ha esposto diciamo il prodotto rifinito ripeto non c'è niente di scandaloso in tutto questo ma è una cosa diversa cioè è una cosa che noi diciamo apprezziamo attraverso categorie diverse quindi anche la valutazione estetica cambia insomma ecco allora io intanto che i ragazzi rientrano in aula e le ragazze naturalmente chiederei a Valentina di assumere il coordinamento della seconda parte della nostra discussione approfondimento seminario ci eravamo detti che anche se non compare nel programma è utile distinguere magari facciamo due due parti del anche di queste quattro comunicazioni più brevi quattro comunicazioni più brevi però le distingueremo ci sei Valentina puoi rimostrarti spiegare intanto che gli studenti rientrano puoi anche dare qualche informazione sul progetto di ricerca che poi è un modo anche per annunciare le prossime quattro comunicazioni delle fiaccarine già in video gli altri facciamo una pausa dopo Tarantino e riprendiamo e alla fine abbiamo così anche il tempo di una discussione finale prego Tarantino sì allora quello che abbiamo pensato noi nell'organizzazione della giornata con Andrea Bossari è proprio un po' questa divisione la seconda parte tra l'altro della giornata di oggi che ha anche il titolo approfondimenti cinema teatro musicale di prosa drammaturgia diciamo contiene un po' o propone diciamo quelli che sono gli interventi anche peraltro di di alcuni partecipanti al gruppo di ricerca che è poi quello che organizza la giornata di oggi che è quello di ecosistema digitale per la cultura in particolare dei quali fanno parte e quindi per questo dico alcuni partecipanti la cineteca vado con ordine qui insomma interviene il prossimo intervento è proprio quello di Anna Fiaccarini il teatro comunale con Maurizio Tarantino ERT fondazione Arena del Sole che è con Barbara Rigondi l'intervento poi va bene ci sarà anche l'intervento di Nicola Borghesi per una compagnia di teatro che è la compagnia Kepler 452 e dicevo come insomma questi interventi sono più che altro interventi quello che pensavamo noi questa seconda parte è proprio anche interventi se vogliamo più pratici ma nel senso che proprio di persone di operatrici operatori che concretamente soprattutto in questo ultimo anno e mezzo o comunque soprattutto nel momento in cui c'è stata una forte accelerazione con il digitale si sono proprio occupate e occupati di reinventare le forme e i modi di produzione resa a frizione dello spettacolo dal vivo ecco e volevo quindi a questo punto indicare anche come questa cosa si inserisce poi all'interno di quello che è invece il nostro progetto di ricerca che è quello di ecosistema digitale per la cultura che è un progetto che si occupa sostanzialmente che ha come obiettivi oltre a quello di indagare le proprie forme di produzione dello spettacolo dal vivo di trasposizione dello spettacolo dal vivo anche di di fornire sostanzialmente una mappatura di quella che è la situazione degli archivi digitali in particolare di materiale audiovisivo che sono presenti sul territorio bolognese questo in particolare poi e a questo infatti accennava anche brevemente Andrea ci sono anche poi degli altri eventi nel corso dei prossimi mesi un altro obiettivo che si pone in questo gruppo di ricerca è anche quello di indagare o meglio fornire quelle che sono le domande a cui dovrebbero saper rispondere poter rispondere eventuali applicativi proprio nel processo di digitalizzazione e di archiviazione del materiale digitale sempre audiovisivo ecco quindi la giornata di oggi giusto per dare fondamentalmente una panoramica si inserisce poi all'interno di questo progetto che è un progetto di un anno insomma un progetto di Urban Bow chissà magari se avrà altri sviluppi ma comunque insomma oggi è questa giornata quindi c'è questa seconda parte in cui si vedono proprio seguite quelle che sono diciamo le tre direttrici che avevamo voluto dare a questa giornata cioè sostanzialmente quella del cinema del teatro musicale del teatro di prosa e poi insomma con Nicola Borghesi di quello che viene definito il teatro interstiziale ma insomma vediamo dopo quindi questa premessa velocissima proprio visto che poi anche come abbiamo visto prima le domande sono tantissime nel momento o meglio le curiosità possono essere tante alcune ancora non sono state sicuramente dopo insomma devono essere approfondite darei la parola proprio a Anna Fiaccarini ricorderei in questo caso come prima di rimanere all'interno dei tempi massimi quindi in questo caso sono 25 minuti 5 minuti prima va bene ci sarà la mia voce robotica a intervenire dicendo ricordando perché così per non togliere tempo proprio la discussione è un pomeriggio abbastanza denso quindi insomma per questo vi chiederei di rimanere nei tempi e quindi lascio la parola ad Anna Fiaccarini Benissimo grazie vorrei innanzitutto ringraziare Valentina Antoniola e Andrea Borsari per l'invito e mi fa piacere che il cinema sia stato accolto in questa categoria dello spettacolo dal vivo quel che rischiamo di perdere specialmente in questi ultimi anni è proprio la dimensione per noi archivi del cinema fondamentale dello spettacolo cinematografico che è proprio quella di essere appunto dal vivo in presenza e in sala lo sapete benissimo i consumi di film nell'ultimo bienio si sono spostati ancora di più ancora più nettamente sulle piattaforme e naturalmente ora la sfida per gli operatori del settore è quello di riportare nelle sale come nei teatri e nelle sale da concerto gli spettatori e penso che il cinema online in streaming possa aiutarci andare proprio in quella direzione adesso è senza dubbio importante e utile vedere dove sono arrivati oggi gli archivi di film rispetto al digitale e a che cosa mirano questi futuri progetti degli archivi senza però perdere di vista questa eterogeneità nella quale ci troviamo di questo mondo degli archivi che è un mondo molto ricco e gli archivi si sono mossi a livello internazionale su binari diversi a diverse velocità e hanno anche diverse nature e obiettivi c'è un obiettivo comune in qualche modo e a cui si in qualche modo si ispirano tutti gli archivi che si può sintetizzare con questa formula che rubo a Dominique Paine ed è conservare per mostrare cioè questo è l'obiettivo di chi opera nel settore del patrimonio cinema quindi da un lato sia sul versante della conservazione sia su quello delle pratiche di diffusione o espositive come si usa dire oggi in ambito museale naturalmente la digitalizzazione è un ruolo fondamentale proverò a spiegare perché porterò alcuni casi esemplari alcuni progetti sui quali stiamo lavorando naturalmente come è già stato citato dal professore Eugenici c'è uno stretto legame tra opera d'arte e tecnologia questo è noto film in quanto opere d'arte sono indissolubilmente legate alle tecnologie che impiegano l'esistenza stessa di queste opere la possibilità che siano percepite in futuro nel modo in cui lo erano originariamente dipende da queste tecnologie man mano che determinate tecnologie diventano obsolete naturalmente le opere diventano inaccessibili tranne forse in versioni che simulano la loro forma originale questa idea dell'originale nei film molto discussa se ciò non accade queste opere vengono semplicemente perse le tecnologie medie basate sulla riproduzione cioè quelli in cui appunto l'apparato ha un ruolo fondamentale sono quelle a maggior rischio di obsolescenza e di scomparsa allora i curatori oggi gli archivisti di tutto il mondo si confrontano quotidianamente con opere divenute orfane delle loro tecnologie ecco questo mi sembra un punto da non dimenticare pensiamo naturalmente al cinema analogico alla fine della celluloide la scomparsa poco più di un secolo dalla sua nascita sapete che molti registi hanno lanciato un grido d'allarme scorsese in primis poi Tarantino ma molti altri è rivolto in primis alle grandi società di produzione degli stock di pellicola la Kodak ma anche la Fuji affinché si continui a produrre pellicola per produrre film ma anche soprattutto noi diciamo per il restauro dei film non è un caso che Tarantino continua a girare in 70 mm questo formato grande che richiede anche un dispositivo di proiezione che è molto affascinante tanto quanto monumentale d'altra parte già lo sapete da alcuni decenni l'editing il messaggio del suono sono in digitale la post produzione delle immagini montaggio correzione del colore effetti ottici sono in digitale il cinema è passato quasi esclusivamente al digitale e ha subito un'accelerazione nel 90 quando per la prima volta l'intero lavoro di post produzione di un lungometraggio è stato intrapreso in digitale e quindi naturalmente le serie tv e tutto viaggia naturalmente in digitale la pellicola è rimasta per molto tempo fino ad alcuni anni fa a lungo lo standard di riferimento nelle sale in cui si continuava a proiettare film su pellicola 35 e questo per fortuna insomma garantito milioni di metri di pellicola prodotti venduti stampati distribuiti eccetera e poi la proiezione in digitale ha cominciato a galoppare in avanti le sale sono anche in Italia ormai al 95% con proiettori in 2k 4k quindi questo salto in avanti ha fatto sì che insomma la filiera abbia subito un forte la filiera dell'analogico naturalmente ha subito un forte drastica crisi c'è però da dire che la proiezione in digitale non ha non ha ucciso lo spettacolo cinematografico ha ucciso la pellicola come supporto ma ha incrementato in qualche modo la possibilità di mostrare più film in sala quindi questo dobbiamo dirlo ed è un dato interessante perché i costi di distribuzione sono calati notevolmente date queste premesse penso sia importante ricordare che chi si prende cura del patrimonio un gruppo di archivisti curatori ma anche registi si trova ad affrontare delle sfide poco incoraggianti anche per quanto riguarda la visione e la conservazione di film fotochimici quindi analogici in un ambiente che ormai è quasi completamente digitale ma ancora più complesso lo sapete è urgente il compito di preservare opere ormai interamente nate in digitale e vale a dire quasi il 100% della produzione attuale la cui aspettativa di vita se non si interviene rapidamente è contata in anni non in decenni e certamente non in secoli è un'esperienza di quindi benissimo il proliferare di documenti sul web quello che alcuni colleghi nelle cineteche del mondo stanno facendo questo per rispondere anche all'interessante intervento di Arbo è quello anche di cercare di salvare i prodotti pubblicati su web di fare download perché tra tre mesi sei mesi quel meraviglioso concerto probabilmente non lo troverete più comunque per darvi un dato sulle collezioni delle cineteche europee solo il 5 10% dei film in pellicola conservati sono digitalizzati quindi proprio nel momento in cui gli archivi di cinema di tutto il mondo hanno bisogno di finanziamenti per ottimizzare la conservazione della collezione analogica costruire dei sistemi di conservazione digitale digitalizzare i loro fondi analogici e anche sviluppare formati digitali per l'accesso alle collezioni ecco che l'effetto combinato della crisi economica budget pubblici ridotti per la cultura e per la ricerca investimenti ridotti al minimo nel settore privato ecco chiaramente queste non hanno contribuito a creare un ambiente in cui si possa lavorare in maniera idonea e un osservatore attento può facilmente intuire quale sia lo stato attuale della conservazione del cinema digitale in tutto il mondo quindi non ci sono bandi finanziamenti significativi c'è stata tutta una campagna molto importante del programma Medi eccetera e su cui si è lavorati per la conservazione digitale ma a un certo punto fine stop dei finanziamenti e certamente anche come dicevo poco si fa sull'ambito della ricerca per fortuna ecco ci sono le università questo devo dirlo e anche le istituzioni e il settore commerciale patiscono sicuramente anche una delle carenze è la mancanza di personale qualificato perché i progetti di formazione specialistica sono pochissimi questo per darvi molto brevemente un po' una panoramica quindi ci stiamo affrontando un futuro estremamente pericoloso in cui le opere nate in digitale siano i film programmi tv o video dei artisti sono destinate a scomparire forse per sempre è inutile dire che il pericolo di perdita non è equamente distribuito perché se in alcune zone del mondo come gli Stati Uniti e l'Europa è ipotizzabile fare una fare una stima che corrisponderebbe a circa 500 film di lungometraggio ogni anno che non vengono salvati ecco questo numero rischia di essere molto tanto più elevato in altre aree geografiche come Africa Asia Sud America eccetera in cui le perdite di patrimonio al tv digitale rischiano di essere molto più importanti fino all'80% del patrimonio prodotto queste sono delle proiezioni delle stime che ho preso da un report dell'Unione Europea naturalmente ma insomma penso che siano attendibili o come riflessione ecco il mio obiettivo ho promesso a Valentina e Andrea di concentrarmi sull'analisi delle best practice su casi di istituzioni soprattutto di natura pubblica ma anche private che hanno comunque come la Cineteca di Bologna una mission che va verso il pubblico e che sono riuscite nonostante tutto a rendere accessibili online gratuitamente i film del patrimonio perché l'interesse di questa mia presentazione è sulla gratuità dell'accesso ai film del patrimonio non parliamo di piattaforma e non parliamo di streaming a pagamento allora innanzitutto perché le istituzioni del patrimonio sono arrivate così tardi a fare questo passo importante che è l'accesso gratuito ai film è da sapere che sin dalle origini quindi parlo della metà degli anni trenta nel periodo in cui nascono appunto le cineteche le istituzioni che si sono preoccupate di conservare le pellicole uscite anche dallo sfruttamento commerciale erano pellicole comunque vincolate dagli eventi diritto quindi in primis le società di produzione e distribuzione poi successivamente i diritti quando decadevano i diritti commerciali sui film restavano e restano le figure di riferimento che sono i coautori dell'opera vincolare le opere con i diritti morali il regista l'autore del soggetto della sceneggiatura l'autore delle musiche risultato è che per molto tempo le cineteche hanno conservato i film senza poterli utilizzare e quindi non potevano mostrarle né restaurarle tanto meno digitalizzarle e diffonderle in rete quindi di fondo adesso provo a condividere lo schermo e molto brevemente il riconoscimento al lavoro delle cineteche è arrivato più tardi molto più tardi quindi dagli anni 30 arriviamo al 1980 in cui abbiamo la risoluzione dell'UNESCO approvata a Belgrado in cui finalmente il film viene riconosciuto come tutte le altre forme d'alter come un bene culturale ecco questo mi sembra un punto di partenza ma già molto prima di questo riconoscimento le cineteche cominciano a fare lobby e nel 38 nasce la prima federazione internazionale degli archivi di film che peraltro teneva insieme quattro paesi prossimi al secondo conflitto mondiale gli archivi di New York Berlino Londra e Parigi che si incontrarono in un congresso nel 39 naturalmente non ci fu un secondo congresso nel 40 ma proseguì l'attività dopo la guerra e la federazione oggi aggrega oltre 155 archivi nel mondo e 44 sono gli archivi europei che hanno creato e ora si trovano a far parte dell'associazione delle cineteche europee ho lasciato i link in questa presentazione che metterò a disposizione di Valentina naturalmente per chi avesse interesse ad approfondire e poi ci sono altre associazioni importanti cito solo quella nordamericana ma ce ne sono a livello internazionale molte altre dicevo che le cineteche nascono e si sviluppano in periodi diversi con diverse mission ho citato Berlino il Reichsfilm Archiv che nasce nel 1933 naturalmente nasce per conservare film di propaganda mentre caso molto diverso la cineteca nazionale a Roma si sviluppa come con l'idea di poter conservare i film per mostrarli agli allevi del centro sperimentale di cinematografia un po' in analogia con la nascita del ghost film Fonda Mosca che accompagnava tutta la scuola di formazione di cinematografia che era il CIC gli archivi indicati nella slide sono solo alcuni esempi di cineteche che hanno un sostegno prevalentemente pubblico e con finanziamenti statali seguono alcuni esempi di cineteche piccole cineteche regionali nate con sostegno della regione e con la mission di preservare documenti e film legati al territorio naturalmente le cineteche municipali qui tengo a citare naturalmente Bologna che è stata fino al 2012 cineteca del comune di Bologna ancora oggi che è fondazione il socio unico importante riferimento il comune potremmo dire che nel nostro caso è cambiata la veste giuridica non la mission che è sempre improntata sul ruolo di servizio pubblico allora diversa naturalmente l'entità dei sostegni e anche diversa la natura delle raccolte qui un'ulteriore distinzione potremmo farla tra le collezioni speciali o specializzate le collezioni generali un po' come per le biblioteche per intenderci il punto di forza di realtà come Lione come l'Institut Lumière è quello di aver sistematizzato la raccolta di materiali di cui la fondazione detiene diritti quindi in questo caso l'archivio i materiali li può sfruttare li può diffondere ripubblicare eventualmente ripubblicare online cosa che ancora non ha fatto però Bologna anche devo dire non l'ho inserito in questa presentazione però una pagina che metterò in un link successivamente in cui pubblichiamo anche noi circa 400 film in streaming gratuito noi ecco per molto tempo Bologna ma anche la Cinemateque Française importantissima per molto tempo non abbiamo potuto pubblicare il patrimonio conservato solo di recente nell'ultimo lockdown la Cinemateque Française che dall'angloire in poi ha influenzato le politiche culturali di tutte le cineteche a livello internazionale ha aperto un portale per accesso gratuito ai film del patrimonio e hanno seguito a ruota altre importanti istituzioni come Lausanna che poi pubblica ogni mercoledì un nuovo film restaurato vi faccio vedere un momento la pagina di Henry che pubblica e ha pubblicato e sono tuttora accessibili gratuitamente online importanti film del patrimonio e delle loro collezioni ma anche film italiani per esempio questo è il caso del film di un film di Dino Risi e qui c'è naturalmente una partnership e una collaborazione con un archivio italiano quindi non solo film del patrimonio ma anche film legati a collaborazioni e accordi per la pubblicazione dei film ritorno un attimo ecco segnalo anche i restauri che settimanalmente la Cinematech Swiss pubblica con una periodicità quindi ogni mercoledì un nuovo film sul loro canale Vimeo credo sia un'esperienza ovviamente molto interessante e vado molto veloce naturalmente non la sentiamo più Anna scusi si è persa la voce adesso adesso sono andata via adesso sono tornata forse grazie interrompo la condivisione riapro la condivisione scusate cosa succede non so comunque molto velocemente ecco la la mi soffermo soprattutto su alcuni casi di quelli che sono stati tra i primi a mettere online il proprio patrimonio cinematografico sia a livello nazionale sia a livello internazionale ci sono stati ci sono stati gli archivi produttori cioè archivi che hanno saputo conservare i materiali che hanno prodotto e che per primi hanno capito quanto potesse essere utile reinvestire sul patrimonio nell'ottica di poter anche riproporre i propri documenti i propri beni per ulteriori esperienze editoriali o anche artistiche in qualche modo metto in relazione l'archivio della Gaumont Paté Archive appunto la fondazione che ha conservato i materiali di produzione delle due importantissime case di produzione francese l'accesso è gratuito all'intero patrimonio oltre 17 mila documentari vedete qua i numeri in alto insomma sono molto interessanti e però l'accesso dovete registrarvi è gratuito ma c'è una necessità di controllo rispetto all'accesso è diverso il caso dell'Istituto Luce Luce produce dal 1924 importantissime serie di documentari cinegiornali per cui interessantissimo sapere poi adesso ultimamente c'è stata una fusione tra Archivio Luce e Cinecittà però anche grazie al browser di ricerca la ricerca avanzata chi si occupa di storia è invitato a consultare questa risorsa molto molto importante dove sono gratuitamente accessibili online 77 mila film e questo era senz'altro da analizzare e quello che corro avanti a scorrere gli archivi aziendali gli archivi di impresa ancora una volta sono andate a una velocità diversa sono stati tra i primi a pubblicare i propri materiali perché naturalmente erano materiali o legati al realizzati su committenza o realizzati a fini promozionali quindi ancora una volta e segnalo l'archivio del movimento operario democratico a Roma che tra i primi ha fatto portale di ricerca molto accurato e molto efficace poi ci sono gli archivi dei movimenti politici l'archivio della resistenza e vengo ai progetti legati alle partnership ci tengo a citare il caso dell'archivio Chaplin è vero che non sono ancora online i film ma si tratta del primo caso di un archivio in cui tutti i documenti di produzione dei film 5 minuti scusate ma ci sto ce ne sono 4 documenti fotografie sceneggiature di un cineasta sono completamente accessibili integralmente accessibili online da questa esperienza abbiamo capito ovviamente è stato realizzato a Bologna questo è un importante progetto in accordo con la famiglia e da qui abbiamo capito che non è sufficiente digitalizzare tutto e pubblicare online per avere un seguito ma occorre accompagnare chi fa ricerca catturare l'interesse del visitatore attraverso percorsi guidati la contestualizzazione dei contenuti quindi fare un lavoro per un sito e continuare proseguire avere una cura editoriale dei documenti perché a nulla serve mettere tutto online altrimenti ripeteremo l'esperienza molto discussa del portale europeo europeana e torno alla ultima slide ci tenevo a segnalare le esperienze di film online molto interessante dei colleghi di copenhagen per cui ci sono oltre 2000 film in un arco cronologico molto ampio integralmente accessibili online e anche il portale del muto oltre 400 film accessibili online altrettanto interessante è l'esperienza di Helsinki perché oltre a aver fatto un lavoro enorme sui sottotitoli dei film per ragioni ovviamente di accessibilità i film hanno pubblicato i film in 4k quindi per migliorare l'esperienza di fruizione dello spettatore di oggi quindi in chiusura voglio citare quelli che sono le esperienze più significative messe in piedi dalla rete delle cineteche europee per cui 45 cineteche europee si sono aggregate per condividere online tutto quello che fino ad oggi è stato da loro digitalizzato ed è quindi gratuitamente accessibile e quindi vi invito a visitare questo portale che ha una sottosezione molto interessante legati ai film della prima guerra mondiale e per finire un progetto ancora più interessante che è sviluppato a livello di prototipo nove archivi e nove università hanno lavorato insieme per l'accesso a materiali legati alla storia delle città in questo caso in cui qui è uno strumento molto utile per chiunque faccia ricerca perché l'intelligenza artificiale è stata applicata alle immagini in movimento e il sistema in maniera automatica o semi automatica in grado di riconoscere e identificare luoghi eventi attività e a quindi preselezionare per chi fa ricerca tutta una serie di materiali in maniera trasversale quindi è utile agli storici dell'arte agli architetti agli urbanisti per concludere le sfide che ci attendono sono molte e quello che è fondamentale sono gli accordi le partnership e la sostenibilità dei progetti senza perdere mai di vista il fatto che i film dovrebbero uscire dagli spazi limitati di tablet e smartphone e recuperare lo spazio e il respiro che meritano ritornare in sala sicuramente ma anche fuori dalle sale andare incontro al pubblico anche negli spazi più pubblici e ora il digitale in questo negli ultimi anni ci ha aiutato moltissimo mi fermo qua perché so che il tempo è scaduto grazie grazie mille Anna per il tuo intervento ho chiesto chiarissimo davvero molto utile anche perché una cosa che mi sono dimenticata di dire prima un po' parlando in generale del progetto della ricerca una delle questioni fondamentali è proprio la questione delle best practice sia a livello nazionale che internazionale è proprio un'indagine su quelle che sono i nostri temi di ricerca e quindi tra l'altro mi pare che dal tuo intervento ma insomma di questo poi vorrò chiederti anche delle cose dopo degli approfondimenti dopo si delinei proprio un nodo centrale che è anche la connessione tra best practice e questione dei diritti quindi alla pubblicazione delle opere e un'altra cosa prima di passare la parola invece a Tarantino che altrimenti mi sembra di non aver ben reso giustizia agli altri partner del progetto insomma qui oggi abbiamo la cineteca la cineteca ERT e il teatro comunale Tarantino che sta per intervenire per l'appunto adesso ma fanno parte di questo progetto anche Arter e l'Accademia delle Belle Arti di Bologna quindi oltre ovviamente al Dipartimento di Architettura che è il capofila del progetto ecco con questo insomma io do subito la parola a Maurizio Tarantino che è responsabile comunicazione del teatro comunale di Bologna sì ciao a tutti gli studenti ringrazio il professor Borsari la professoressa Antoniol ma io in verità volevo iniziare condividendo lo schermo con un video ma il pulsante di condivisione dello schermo non me lo dà mi dice che solo gli organizzatori possono condividerli dammi due secondi vabbè intanto inizio è un video quindi dovrebbe sentirsi anche l'audio credo che si sentirà ma allora io il mio intervento l'ho intitolato l'occhio digitale dell'opera perché in questo periodo in questo dopo il lockdown insomma e tutti i teatri in generale la produzione dello spettacolo dal vivo si è trovata ad affrontare un problema enorme che è quello appunto del fatto che gli spettacoli non erano più dal vivo allora io provo un attimo a condividervi questo video perché è abbastanza simbolico provo a condividere lo schermo se ci riesco e ma non ci sto riuscendo comunque c'è la freccina inserire clicchi lì e selezioni il video però mi esce chiudo il pannello di condivisione ma non mi esce il adesso è libero eh vedo ma forse è il mio browser che mi da dei problemi perché è possibile che Safari faccia questi scherzi comunque ve lo faccio vedere la prossima volta e si trattava di un di un documentario breve uscito a puntate che si chiamava si chiama l'hotello sospeso ed è sul canale youtube del teatro comunale di Bologna è un'esperienza simbolica perché praticamente è accaduto nel novembre dell'anno scorso che noi eravamo andati appositamente al Paladozza per ospitare il pubblico diciamo distanziato le mille persone che dentro il teatro comunale non ci sarebbero mai state e c'era questo hotello di Michele di Gabriele Lavia che è uno dei più grandi maestri diciamo della messa in scena teatrale ancora vivi in Italia che in qualche modo era stato fatto appunto lì solo che pochi giorni prima della messa in scena c'è stato il lockdown è tornato il lockdown e questo grande investimento perché era stato speso anche molti soldi per fare questo allestimento immaginatevi adattare il Paladozza un palcoscenico non andò mai in porto quindi noi girammo questo documentario che si chiamava l'hotello sospeso e che diciamo era abbastanza simbolico per come può diciamo raccontare il mondo dell'opera tenete conto che l'opera lirica è quanto di più antitetico rispetto alla fruizione digitale cioè l'opera lirica è qualcosa di classico estremamente classico nell'immaginario collettivo è il classico cioè un utente di opera lirica è visto come una persona esperta di un linguaggio che è quello musicale perché questo è un teatro musicale diverso dal teatro diciamo di regia di prosa è un teatro che si fonda sul linguaggio musicale però lo mischia lo mischia diciamo con un altro elemento estremamente classico che è la lirica che è la poesia che è il testo diciamo in un linguaggio aulico arcaico un italiano anche difficile da comprendere perché appunto è l'italiano del 700 dell'800 di aprile del 900 l'italiano aristocratico con un retaggio fortemente aristocratico che in qualche modo è quanto di più difficile da diciamo mettere in scena sul piano digitale digitale all'opposto è una serie di informazioni spesso date con una frequenza molto serrata è come leggere un giornale solo per titoli cioè la fruizione digitale è effimera per definizione non presuppone nessun approfondimento la gente entra nei social fruisce spesso e volentieri anche male nel senso che diventa essa stessa fonte di ulteriore frivolezza dell'informazione ed esce mentre l'opera è tutt'altro come ci siamo detti cioè per vedere un'opera noi dobbiamo pensare a un linguaggio per il quale serve un avvicinamento cioè una persona può avvicinarsi all'opera per la prima volta e si renderà conto che la prima diciamo il primo non ostacolo diciamo la prima cosa alla quale si deve abituare sono i soprattitoli cioè un'opera a me piace molto più la sinfonica infatti perché ci si può rilassare totalmente un concerto sinfonico ci si può lasciare diciamo trasportare dalla musica l'opera ha una trama e spesso per vedere un'opera insomma chi arriva a fruire un'opera già deve conoscere la trama cioè non esiste il concetto di spoiler nell'opera perché l'opera a parte si basa sempre sui grandi classici la struttura narrativa spesso anche si ripete gli incroci tra i personaggi sono dinamiche che tendono appunto a esaltare gli intrighi ma non cioè non sono costruzioni diciamo sul piano della trama articolate a parte alcuni casi tipo il trovatore sono diciamo fruizioni dove ci si centra invece sulla commissione dell'arte tra la lirica la musica la messa in scena teatrale e quindi l'aspetto diciamo di più discipline che in qualche modo creano una commissione perfetta e creano una magia che può essere fruita solo nello spettacolo dal vivo cioè è una commissione tale perché è una fruizione collettiva non è una fruizione individuale questa è l'altra grande differenza con il web il web è una fruizione individuale quindi noi ci siamo trovati a questa sfida il fatto che non ci fosse più la possibilità di andare in sala venisse meno la fruizione collettiva per noi era un problema molto serio e per tutto il teatro in Italia lo è stato nel mondo e quindi la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente come tutti è andare sulle piattaforme online abbiamo preferito ragionare su una distribuzione nostra con il nostro brand che è quello del teatro comunale di Bologna e ci sono stati grandi risultati detto questo però io ho fatto un'analisi nel nostro piccolo di quello che è accaduto tenete conto che tutti i teatri dal Metropolitan Govend Garden alla Scala tutti i teatri sono andati online e oserei dire che tutti cioè proprio in generale tutti sono andati online dalle call a delle università alle scuole c'è stata una massa di informazioni che è andata online senza che nessuno si preoccupasse bene chi le fruiva in che modo le fruiva io sono sempre stato poco convinto per esempio di alcuni esperimenti che sono stati fatti in Italia dove per esempio si vendeva su Facebook un titolo tipo la cavalleria rusticana se non erro non voglio dire quale è il teatro che l'ha fatto perché non è importante e che vendeva l'opera a 3 euro cosa significa vendere un'opera a 3 euro vendere 30.000 biglietti su Facebook a 3 euro e andare a vedere la cavalleria rusticana con un cast tra l'altro di eccezione molto importante io penso che non ho visto gli analytics di quei dati ma penso che di questi 30.000 29.000 si siano scollegati dopo i primi 5 minuti e 20.000 dopo i primi 40 secondi nonostante abbiano pagato i 3 euro cioè è stato un meccanismo di emulazione che spesso accade sul web e spesso è di curiosità quindi noi dobbiamo tenere conto in effetti dei contenuti come vengono fruiti i contenuti anche adesso io sto parlando vedo un sacco di pallini con delle lettere io non so se dietro qualcuno mi sta seguendo o non mi sta seguendo cioè l'intermediazione del digitale è un qualcosa che appunto la parte effimera di prima non mi restituisce diciamo l'attenzione dello spettatore questo non c'è in assoluto e quindi noi l'abbiamo fatto in qualche modo cercando un obiettivo l'obiettivo principale è quello di avvicinare lo spettatore all'opera perché l'opera è come dicevamo complessa quindi offrire gli strumenti allo spettatore per in qualche modo avvicinarsi e capirne il linguaggio e quindi per questo sarebbe stato importante farvi vedere il documentario perché il documentario era basato su Otello Otello è un dramma di Shakespeare che è stato rimesso in scena poi da Verdi e da Boito con una ripresa un'altra lettura cioè la lettura era la stessa ma c'erano letture legate alla società dell'Ottocento rispetto a quando è stata scritta da Shakespeare molto interessante e io avevo a disposizione dei grandi artisti avevo Gregory Cunde che è un tenore molto importante a livello internazionale avevo soprattutto Gabriele Lavia che è un narratore una persona che padroneggiava Otello perché lui era Otello cioè lui è uno dei più grandi interpreti di Shakespeare di Gabriele Lavia e in qualche modo ho diviso questo mini documentario in tre puntate che rappresentavano i personaggi quindi Otello Desdemona e Iago l'altro uno dei trio più interessanti della storia del teatro perché c'è la questione dell'Ottello Moro che in qualche modo in teoria dovrebbe rappresentare qualcosa di diverso spaventoso invece era una persona estremamente generosa Desdemona che invece può essere paragonata a qualcosa di aulico angelico e mentre Iago che era il bianco e che era totalmente sempre stato una persona estremamente malefica diciamo raccontare questi tre personaggi tramite quella chiave di lettura di chi del regista eccetera eccetera era importante ma queste cose le abbiamo viste spesso infatti io le ho mischiate con un altro elemento principale che serviva per entrare nel linguaggio cioè c'era la narrazione che ci descriveva chi era Otello che si alternava dei momenti precisi di una prova che si chiama prova l'italiana non perché si faccia suona in Italia ma perché in Italia l'abbiamo inventata nel quale c'è l'orchestra il direttore e i 4-5 cantanti dell'opera che fanno soltanto la prova musicale cioè il regista non ci mette neanche via di una prova l'italiana e in qualche modo è come se il testo la lirica che dicevo prima e insieme alla musica venissero messi in scena ogni attore ogni cantante l'interprete aveva una telecamera esclusiva solo per lui un audio dedicato e quindi alcuni momenti chiave dell'opera dell'Otello Desdemona Rea c'erano alcuni momenti importantissimi di Credo di Iago Credo di Ocludel e pochi secondi pochi 2-3 minuti venivano trasposti dal duetto di questi due cantanti che raccontavano la storia soltanto gli estratti principali quindi ho preso i 3-4 momenti simbolo dell'opera e prima raccontare agli attori che caratterizzazione dei personaggi raccontavano la storia e poi c'erano questi momenti in cui proprio si vedeva come cantavano quindi cosa avrebbe visto un potenziale fruitore che non è mai venuto al teatro d'opera cosa si sarebbe dovuto aspettare ecco io credo che vedere quei 3 nei documentari avrebbe offerto delle chiavi di lettura molto più potenti di Wikipedia adesso chiunque si avvicina all'opera la prima cosa che fa è andare su Wikipedia a vedere la trama perché era un video e restituiva l'aspetto musicale e tutto ciò avrebbe portato molto probabilmente le persone ad avvicinarsi all'opera e nel momento in cui perché poi l'opera ha un'altra particolarità particolarità importante l'opera va diciamo in linguaggio che va padroneggiato avere la padronanza dell'opera significa vederla più volte io ho avuto l'opportunità di vedere uno spettacolo d'opera per lavoro per 6-7 repliche sapete che le opere si replicano ogni volta che va in scena sono 6 le repliche non si fa solo una volta lo spettacolo diciamo che la bellezza dell'opera è riuscire ad abbandonare diciamo i sottotitoli e comunque il fatto che bisogna seguire la trama cioè se tu già sai come va a finire e conosci già alcuni momenti anche nelle parole perché li memorizzi allora ti lasci trasportare della musica cioè capisci il fascino che c'è nella messa in scena musicale del testo che è una cosa importantissima cioè che non oggi chiaramente con linguaggi musicali totalmente rivoluzionati altri generi eccetera eccetera possiamo già solo immaginarlo ci sono dei brani musicali pop anche che ci fanno spesso molto piacere ascoltarli che ci fa piacere canticchiarli immaginate cosa può essere nell'opera nell'opera riuscire a padroneggiare quel tipo di linguaggio lì è qualcosa che veramente te la fa apprezzare quindi più la si vede l'opera più la si apprezza quindi il digitale serve anche per quello se uno spettatore è venuto a vedere la cenerentola di Emma Dante che faremo in dicembre e dopo l'ultima replica li metto in scena in streaming la cenerentola di Emma Dante l'ha già vista la rivede la prossima cenerentola che vedrà tanto le opere poi sono sempre quelle saranno un centinario di titoli che si replicano sempre la avrà più padronanza e quindi tutto ciò diciamo va fatto sul piano gratuito non ha senso ragionare sul piano economico dell'opera adesso infatti volevo farvi un ragionamento che riguarda più l'aspetto diciamo gestionale di tutto ciò tenete conto che noi siamo andati abbiamo fatto circa un migliore e mezzo di accessi unici sul nostro canale YouTube negli ultimi negli ultimi due anni di lockdown gran parte del pubblico veniva dalla Russia da molti russi molti americani molti canadesi perché appunto l'opera è qualcosa di internazionale il teatro comunale di Bologna cioè Bologna si chiama è patrimonio unesco per la musica per un motivo ben preciso cioè qui a Bologna hanno Rossini Rossini faceva il maestro al cembalo ai primi dell'ottocento ha iniziato a lavorare al teatro comunale di Bologna Toscanini venne qui e fu preso a schiaffi diciamo vabbè lasciamo stare la vicenda in sé comunque ci sono stati momenti storici importantissimi in questo teatro e quindi ha un brand internazionale e quindi ogni volta che mettiamo online un'opera c'è un grande afflusso di pubblico diciamo estero e il fatto di mettere online tante opere non è uno scherzo cioè se dovessimo stare nei canoni normali di produzione di uno spettacolo streaming uno spettacolo streaming con una regia televisiva quindi parliamo di 7-8 telecamere gli operatori il regista il maestro collaboratore il montatore la post-produzione cioè questo lavoro qui è normalmente quota intorno dai 15 ai 20 mila euro diciamo tenete conto che uno spettacolo normalmente cioè un teatro d'opera come il nostro il nostro significa anche il Maggio Fiorentino l'opera di Roma il San Carlo di Napoli come dicevo prima ce ne sono 13 in tutta Italia di fondazioni lirico sinfoniche produce circa 12 spettacoli all'anno 12 opere all'anno ogni spettacolo sta in diciamo tra montaggio prove messa in scena un mese ecco se dovessimo fare questo lavoro di messa in scena dello streaming e documentario perché il discorso del documentario è importantissimo le pillole da mettere sui social per avvicinare si tratterebbe di un costo di 25 mila euro circa per ogni opera quindi 300 mila circa su ogni anno tenete conto che YouTube paga normalmente la pubblicità che noi comunque abbiamo su YouTube ricordatevi sempre che nulla è gratis sul web YouTube paga se il teatro ne fa richiesta noi non ne facciamo neanche richiesta pensate un po' perché a noi non è proprio quello noi lo facciamo per una questione di brand non per una questione economica comunque paga intorno e 4-5 paga 1 euro ogni 4-5 mila visualizzazioni se non erro e questo praticamente insomma dai conti che avevamo fatto anche un milione un milione e mezzo di visualizzazioni porterebbe degli introiti intorno ai 15 10-20 mila euro adesso non ricordo di preciso cioè nessun paragone con i 300 mila che spenderemo per fare tutto ciò YouTube funziona per gli YouTuber cioè una bambina va avanti la sua telecamerina smonta una bambola e fa 5 milioni di visualizzazione questa è diciamo la rivoluzione di YouTube i contenuti effimeri che dicevo prima i YouTuber lavorano così ma se ci devono essere degli strumenti di produzione appositamente per YouTube la cosa non sta in piedi noi abbiamo diciamo a questo punto cercato in tutti i modi di abbattere questo perché insomma c'era il lockdown dovevamo trovare una soluzione di abbattere questi costi di produzione e l'unica soluzione è stata quella di cablare il teatro abbiamo cablato il teatro in fibra acquistato tramite un mecenate privato bolognese che ci è stato sempre accanto tutta l'apparecchiatura dallo streaming audio al video tra l'altro l'audio ha una grandissima importanza anche sempre in teatro musicale e alle telecamere e questo ci ha permesso di volta in volta di produrre uno spettacolo chiamando gli operatori su piazza il regista per un lungo periodo l'ho fatto io adesso diciamo sono anche un po' stanco perché sono tante le occasioni di mettere in scena delle opere questo ci ha portato ad abbattere diciamo i costi del 90% cioè non c'è proprio paragone e quindi quello che prima per me sarebbe costato 300 adesso costa 30 e quindi questa operazione qua non dico che potrei rientrarci anche con le visualizzazioni di YouTube perché non mi interessa però diventa più sostenibile e quindi il fatto che questo diventi sostenibile mi dà l'opportunità di raggiungere molte più persone di avvicinarle perché l'obiettivo deve essere quello cioè l'obiettivo dello streaming e del digitale deve servire per portare lo spettacolo gli spettatori in teatro per dare forza allo spettacolo dal vivo non come questi grandi equivoci che a mio avviso si sono scatenati proprio in questo periodo che in qualche modo sembrava sostituirlo a un certo punto perché poi su questo forse i teatri stanno in piedi ma lo spettacolo dal vivo muore totalmente senza una fruizione di quel tipo lì quindi la gente paga paga anche tanto per andare a vedere uno spettacolo perché c'è una fruizione collettiva delle cose cioè sono elementi sociali importanti si va a vedere un concerto diciamo di musica rock sì per ascoltare il musicista ma per avere la felicità di stare con il gruppo di amici e ascoltare quel musicista perché sennò uno se lo ascolta a casa con la tecnologia che c'è ora con la realtà aumentata cioè la fruizione è anche migliore l'aspetto proprio quello invece quello di diciamo creare portare più pubblico possibile tramite questi strumenti digitali che sono sempre più efficienti e che possono in qualche modo stimolare ancora di più la curiosità e portare un appassionato una persona che è soltanto appassionata o non conosce l'opera a proprio padroneggiarla e a venire magari a spendere anche 100 euro per vedere la prima questo diciamo è il processo più importante e la vera sfida che l'opera in generale penso il teatro ha nei confronti delle nuove generazioni e dei nativi digitali poi dopo ci sono altre questioni più importanti cioè più importanti ugualmente importanti perché questa è una parte io vi ho parlato di una parte che diciamo attiene alla produzione da una parte l'ho detto per secondo e alla distribuzione della prima cioè il canale youtube il tipo di fruizione e il linguaggio che secondo me dovrebbe avere uno spettacolo messo online c'è però un altro aspetto nel senso che tutti questi grandi teatri in generale il teatro in Italia così come la cineteca ha un enorme mole di materiale 5 minuti scusami ha un enorme mole di materiale negli archivi cioè l'archivio del teatro comunale di Bologna conta adesso noi abbiamo vinto un bando con il ministero della cultura sulla digitalizzazione delle foto conta soltanto di foto 20.000 fotografie che do digitalizzare lo stiamo facendo in generale abbiamo manifesti che risalgono nei primi dell'ottocento sono tantissimi abbiamo una sterminata produzione discografica di incisioni fatte dagli anni 40 da quando esiste l'incisione il concetto di incisione in Italia fino ai nostri giorni e poi anche una sterminata una parte molto importante di video ecco questi sono dei fondi enormi che spesso non vengono fruiti cioè non vengono fruiti uno perché non sono digitalizzati perché bisognerà iniziare a fare un enorme lavoro di digitalizzazione poi bisogna fare un altro lavoro altrettanto importante sulla produzione quindi sui diritti diritti che sono spesso un problema molto serio perché impediscono impediscono giustamente perché il copyright è una cosa fondamentale però ecco quando i diritti diventano anacronistici teniamo conto che la maggior parte dei diritti degli anni 70 80 degli opere prodotte in quegli anni lì sono stati scritti per i diritti televisivi quando ovviamente si va sui diritti televisivi si va su una fruizione di milioni di italiani che si collegano alla RAI per essere visti quindi giustamente dovranno essere alti adesso si va sul digitale è anacronistico dover dire a un tenore andare a ritracciarlo per dire io ti devo dare il 20% della parcella che prendesti nel 77 perché così c'era scritto nel contratto questo mi impedisce di mettere in scena l'opera anche magari delle opere importanti perché esiste questo enorme problema che andrebbe affrontato nelle sedi adeguate perché di fatto poi impedisce la fruizione di avere la produzione culturale italiana negli ultimi 40 anni e questo è qualcosa almeno per quel che riguarda il teatro d'opera probabilmente del teatro di prosa è qualcosa che diciamo pone un forte scoglio che va affrontato quanto prima in generale la sfida del digitale per i teatri si attiene poi molto anche alla cioè non c'è una cultura del digitale non esiste nel senso che spesso e volentieri io leggevo ieri che tra l'altro l'Italia è quella anche messa meglio molto meglio messa meglio della Germania per esempio sul piano digitale eppure ci sono delle enormi falle nella formazione del personale in generale per tutto quello che attiene in digitale e ci sono enormi fette di mercato chiamiamolo così comunque tutte le nuove generazioni viaggiano su canali altri che è con linguaggi altri nel momento in cui ci si interroga di rinnovare il pubblico e di rivolare su nuove fasce di pubblico bisogna delegarsi sui linguaggi che cambiano cercando il più possibile anche le chiavi per entrare in questi linguaggi che non sono affatto semplici niente ringrazio tutti e spero di essere stato a te all'attenzione grazie grazie mille Maurizio per questo anche con i tempi mi immagino adesso vorrei proporre 5 minuti di pausa così spediamo gli ultimi due interventi che ci rimangono però immagino che alla fine nella discussione ci sarà forse un dialogo tra Argo e Trantino su due interventi che vanno in direzioni quasi molto diverse mettiamolo in questo modo comunque adesso darei 5 minuti quindi sono le 17 e 12 che ci ritroviamo di nuovo a microfoni e telecamere accese o mezzo accese mezzo spente alle 17 16 insomma ecco sì scusate 17 17 sì una comunicazione di servizio ho caricato nella chat il link al documentario all'hotel sospeso che diceva Tarantino così chi sono tutte e tre le parti chi lo vuole guardare dico anche gli studenti se lo scaricano il link possono guardarlo tranquillamente a completamento di quello che è stato detto insomma mi sembra che questo pomeriggio è piuttosto è piuttosto denso penso nel senso anche di ricco proprio dico anche con sfaccettature posizioni diverse ma in realtà immaginavo che che si sarebbe stata questa situazione composita perché effettivamente cioè è uno dei temi del momento e quindi proprio per matura della cosa penso che si possono creare funzioni differenti se posso approfittare di questi due minuti anzi un minuto perché prima è lanciato questa questa cosa cioè in realtà non è così opposta la posizione rispetto a quello che è stato detto sull'opera perché per sé voglio dire anzi è proprio una prova del fatto che il plus valore diciamo documediale che produce il web è proprio quello che poi va in tasca soprattutto alla piattaforma e non al musicista o al produttore per questo che è chiaro che un teatro ha tutto interesse a pensare diciamo di fare lo streaming per portare gli spettatori però in sala insomma poi per carità io penso che lo spettacolo in streaming ha delle possibilità questo sì l'opera l'opera forse diciamo quando diventa prodotto visto sullo schermo diventa un'altra cosa cioè è uno spettacolo che è prevalentemente costruito con una grande equip e che usa insomma fruito in una maniera completamente diversa ma comunque il fatto che effettivamente non convenga è abbastanza chiaro cioè voglio dire soprattutto per un'istituzione che ha già il suo prestigio che non ha bisogno di un valore di esposizione maggiore diciamo forse di pubblicità sì ma voglio dire in sé non è come il musicista che si produce e che effettivamente per il quale diventa una chance tra le più importanti insomma per il teatro sicuramente no e invece il plus valore che produce è proprio quello che poi invece va nelle tasche di YouTube non certo del teatro di Bologna come di quello che ha immesso il contenuto multimediale ecco va beh guardi queste cose qua secondo me sono tutte interessantissime le terrei per dopo visto che abbiamo sì 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 no era solo per approfittare come ho visto che ci sono due minuti e così non prendo tempo dopo era solo per la diversità tra i due interventi che io notavo non era tanto su questo aspetto che effettivamente hai ragione tu ma proprio anche una cosa secondo me invece che merita proprio la discussione dopo e ti ringrazio per aver anche già introdotto la questione proprio sulla differenza da un punto di vista di fruizione da un punto di vista percettivo forse che vedevo di più ma insomma spero si possa continuare per l'appunto dopo la discussione su questi temi adesso io inizierei insomma e darei la parola a Barbara Regondi di Fondazione Teatro Teatro Arena del Sole che ha un cui titolo dell'intervento è il teatro di prosa il digitale cosa è cambiato e possibili scenari futuri prego Barbara grazie buonasera a tutti grazie allora Emilia Romagna Teatro è un teatro nazionale io cercherò di essere breve spero che conosciate comunque ci occupiamo di teatro di prosa principalmente il rapporto tra il teatro di prosa e il digitale ha subito una profonda trasformazione con l'avvento della pandemia prima che il covid 19 come dire minasse la nostra normalità le registrazioni di spettacoli dal vivo erano prevalentemente a scopo documentaristico o promozionale dal punto di vista promozionale in realtà venivano messi online o mandati tramite mail semplicemente dei trailer per appunto per promuovere gli spettacoli e lo spettacolo integrale la registrazione dello spettacolo integrale al di là della funzione documentaristica veniva usata prevalentemente tra gli addetti ai lavori soprattutto nei casi in cui uno spettacolo andasse in scena che ne so in un altro continente fosse difficile da vedere dal vivo come tutti sanno per antonomasia il teatro di prosa è spettacolo dal vivo quindi gli spettacoli sono concepiti e realizzati in base al fatto che c'è un rapporto dal vivo in presenza tra lo spettatore e l'attore quindi le riprese che magari venivano fatte anche con mezzi di di buona qualità o di alta qualità però non difficilmente raramente quasi mai avevano accanto alla regia teatrale una regia cinematografica e tantomeno una truppo cinematografico questo però in realtà sarebbe molto importante perché senza una vera regia cinematografica lo spettacolo dal vivo su uno schermo rischia di diventare piatto e difficile da seguire insomma noioso in brutte e poche parole io ricordo pochissimi casi uno è andato in onda questa primavera di produzioni fatte con due staff tecnici quello teatrale e quello cinematografico e sono produzioni della RAI quando la RAI decide di programmare di mettere nel palessesto uno spettacolo allora a fianco un regista in questo caso televisivo che lavora insieme a quello teatrale e il risultato si vede cioè è un'altra cosa normalmente un teatro tantomeno una compagnia non può permettersi di fare una registrazione di questo tipo per cui con la pandemia le forme artistiche come il teatro che per cui è imprescindibile la compresenza fisica si sono trovate costrette a fare i conti con il divieto della loro pratica proprio per le caratteristiche che quella pratica ha e contemporaneamente gli spettatori si sono visti costretti chiusi tra le mura di casa questo come ben sapete ha immediatamente nel giro di pochissimo scatenato sul web in Italia in Europa in tutto il mondo questa cosa è stata generale c'è stato un proliferare di spettacoli in questo primo momento questi spettacoli erano tutte registrazioni vecchie gli spettacoli che avevano già debuttato e quindi quasi tutte il 99% con le caratteristiche che dicevo prima cioè un po' difficili da seguire perché fatte con riprese però attorno a queste hanno iniziato a crearsi altre cose anche Erth l'ha fatto con Erth On Air che era un contenitore che si appoggiava al sito di Erth e quindi oltre agli spettacoli in streaming c'erano incontri con i registi gli attori letture in tutto questo primo periodo queste iniziative erano gratuite poi a un certo punto alcune di loro hanno incominciato a richiedere un biglietto naturalmente un biglietto molto più basso di quello per una presenza in sala questo perché dopo un po' di mesi si è incominciato dopo un po' di mesi dall'inizio del lockdown a proporre delle novità teatrali pensate e realizzate per il digitale per essere fruite attraverso uno schermo e per un pubblico che probabilmente non era solo non era più quello abituato ad andare in sala assistere a uno spettacolo allora qui sono iniziate a nascere delle cose diverse cioè degli esempi di teatro pensato per il digitale vi faccio brevemente qualche esempio nel settembre del 2019 il Dublin International Theatre Festival è andato ha fatto una programmazione totalmente online con streaming e tutto ciò all'interno del programma del festival di Dublino ha debuttato il primo studio di una compagnia irlandese che si chiama Dead Center è una compagnia giovane relativamente giovani hanno fatto qualche spettacolo molto belli noi abbiamo avuto anche la fortuna di ospitarne uno al nostro festival loro hanno lavorato su un libro di questo giornalista irlandese che si chiama Marco Connell il libro si intitola To Be A Machine in Italia credo sia editoro da Adelphi questo giornalista è stato quattro anni negli Stati Uniti e in particolar modo nella Silicon Valley e ha fatto questa indagine sul mondo dei transumanisti sulla realtà dell'intelligenza artificiale e delle nanotecnologie applicate all'uomo al corpo umano per capirci non lo so se qualcuno magari qualche anno fa avesse letto il romanzo di De Lillo Zero K pensando che De Lillo avesse usato questo questa atmosfera futuristica per parlare del senso dell'esistenza della vita e della morte leggendo O'Connell si rende conto che lì di fantascienza non c'era nulla ma si parlava di una realtà già molto presente molto attiva quindi questa compagnia Ed Center ha lavorato su questo testo e ha tratto un bellissimo spettacolo in scena lo spettacolo era gli spettatori assistevano in live streaming lo spettacolo era in diretta da un teatro in scena c'era un attore molto bravo che era con l'ausilio di telecamere video e altre tecnologie sofisticate descriveva quanto raccontato nel libro gli spettatori quando acquistavano agli spettatori nel momento dell'acquisto del biglietto veniva richiesto di registrare un video e venivano date delle istruzioni agli spettatori per registrare questo video cioè qui sorridi qui fai la faccia noiata qua applaudi cose di questo genere quando iniziava la diretta c'era questa inquadratura sul teatro in scena c'era l'attore con questi schermi e in platea perché tu quando acquistavi il biglietto avevi un posto assegnato come se tu andassi a teatro su ogni poltroncina della platea veniva montato un grande ipad air con le immagini che tu avevi registrato quindi tu ti vedevi seduto al tuo posto vicino agli altri spettatori e la regia manipolava i video che erano stati registrati di modo che il pubblico rispondesse quando c'era da ridere con una risata e così via questo upload del pubblico era molto efficace perché non era una mera trovata spettacolare ma era drammaturgicamente connesso con gli argomenti di cui trattava lo spettacolo e quindi funzionava molto bene poi un altro esempio invece è molto diverso perché qui la tecnologia è a livello basic ed è uno spettacolo di una coppia iraniana che trasmetteva anche qui lo spettatore assisteva in live streaming la coppia trasmetteva dal salotto di casa loro e raccontava la storia vera di alcuni giovani figli delle famiglie più benestanti di Teheran e lo faceva da lì raccontando facendo vedere delle cose ma ogni spettatore doveva collegarsi via Instagram a un profilo dello spettacolo su questo profilo dello spettacolo erano stati riportati contenuti dei profili Instagram di queste persone di cui veniva raccontata la storia e in questo modo tu avevi le informazioni e interagivi con questa cosa poi un altro esempio è quello della regia digitale cioè a distanza in realtà il primo esempio non è relativo alla pandemia ma è di pochi mesi precedente perché stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto comunque ha debuttato nel luglio del 19 e questo sto parlando di Kiri Serebrenikov che è un grande regista russo a cui il Festival d'Avignon aveva affidato la regia di uno spettacolo internazionale di una produzione internazionale qualche mese prima nell'inverno Serebrenikov è stato arrestato una cosa che non aveva commesso ma questa è un'altra storia e dopo un lungo periodo in prigione è stato messo agli arresti domiciliari a quel punto ha deciso di fare la regia in streaming di questo spettacolo che poi ha debuttato al Festival di Avignon ottenendo anche un grande successo e invece sempre un altro esempio di regia di stanza questa volta causa covid riguarda proprio la compagnia che è per il 452 quindi dopo parlerà Nicola Borghesi che è il regista e ve ne parlerà in modo più dettagliato io vi dico solo loro erano stati invitati al FIBA che è il festival internazionale il teatro di Buenos Aires è un festival molto grosso molto importante e erano stati invitati con un loro spettacolo ma chiaramente col covid non si poteva andare quindi anche anche in questo caso loro hanno ideato un progetto hanno fatto la regia non solo lui vi racconterà hanno fatto i provini perché lo spettacolo chiaramente aveva in scena degli attori quindi hanno fatto provini e tutto quanto e hanno fatto la regia in streaming dall'Ità da Bologna con devo dire uno straordinario risultato in realtà poi Borghesi immagino vi parlerà d'altro perché la sua compagnia è stata molto attiva durante il lockdown e si è inventata molti format per uscire un po' da questa situazione concludo questo breve excursus di esempi parlando di una cosa che esce un po' dal seminato nel senso che qua non c'entra il digitale però la cito perché è un altro stadio di trasformazione del teatro di prosa qualche mese fa ha debuttato un lavoro che si chiama IEM la regia di Susanne Kennedy Susanne Kennedy è una giovane ma già molto affermata regista tedesca che lavora stabilmente alla Volkspune di Berlino lei fa spettacoli di prosa normalmente in cui già da anni nei suoi spettacoli dal vivo c'è sempre un elemento la tecnologia è un elemento drammaturgico molto importante e infatti lei lavora con questo artista multimediale tedesco che si chiama Markus Selg ora qualche mese fa ha debuttato il suo primo spettacolo di realtà virtuale fatto sempre insieme a Marco Selg e quando sono andata a vederlo chiaramente ogni spettatore è diviso lo spettatore si siede a terra gli vengono messe delle cuffie per il suono per il sonoro e il visore per la realtà virtuale e mi ha colpito moltissimo nel senso che io mi ci sono approcciata un po' come se andassi a fare un giochino divertente non so e invece sono rimasta il parco è bellissimo ma lì c'era una regia teatrale cioè io ho visto uno spettacolo e questo secondo me è un passo ulteriore insomma quindi l'attenzione degli artisti ma anche delle istituzioni rispetto al rapporto tra teatro digitale tecnologie in generale è attualmente molto viva cioè la pandemia ha proprio dato un respiro proprio anche ai pensieri vengono stanziati ultimamente sono stati stanziati finanziamenti ad hoc incentivi tramite bandi e call soprattutto dalla comunità europea per iniziative che focalizzano l'attenzione su questo tema quindi io credo che sia compito degli operatori e degli artisti cercare di sfruttare è una brutta parola ma insomma questi investimenti per offrire delle nuove possibilità cercando anche delle sinergie produttive tra le esigenze produttive e quelle artistiche faccio un esempio ERT è da anni partner di un network internazionale di cui appunto partner insieme a altri nove importanti teatri di tutta Europa quest'anno questo network ha presentato alla commissione europea nella call Europa Creativa un progetto che si chiama Prospero Extended Theater che è proprio un progetto di teatro ma in cui c'è una importante parte dedicata al digitale il progetto ha vinto quindi questo mese iniziano le attività oltre ai teatri che normalmente fanno parte di questo network per il progetto è entrato come partner anche ART il canale culturale europeo televisivo che promuove la cultura europea tra gli obiettivi del progetto c'è proprio quello di pensare a una strategia che guardi sia agli spettatori che si recano fisicamente a teatro ma anche a quei fruitori che attraverso il web si avvicinano al teatro e che probabilmente in sala non sono interessati ad andare o almeno la maggior parte di loro il progetto prevede la costruzione di una piattaforma digitale on demand qui si verranno trasmesse in streaming le riprese delle produzioni teatrali fatte dai partner con però regge cinematografiche e tutto soprattutto le inizialingue e accanto a questo ci saranno interviste documenti video insomma materiali per approfondire e in più allora stringo volevo toccare un altro punto che è quello della crisi climatica perché anche questo è molto connesso io sono molto attenta anche perché sto lavorando a un progetto sulla crisi climatica la tecnologia e il digitale sono strumenti che per chi si occupa di teatro dal vivo diventano importanti comunque la questione climatica ha innescato all'interno del mondo culturale un pensiero che viene definito green theater a livello internazionale noi appunto ci stiamo lavorando con questo progetto europeo l'idea è quella di ripensare le modalità di azione e produzione teatrale appunto sia legata alla produzione ma moltissimo alla mobilità cioè alle tournée voi pensate la lirica è ancora peggio ma per il teatro di prosa uno spettacolo che si muove sono 20 persone poi ce ne sono meno ce ne sono di più camion c'è un problema di sostenibilità quindi l'idea non è però quella di mandare lo streaming ma di pensare a una produzione più sostenibile quindi adesso potrei dirne molte ma ne dico una cioè l'idea per esempio che un regista magari insieme a qualche collaboratore lavori ad un format ci lavori in una città e lì venga messo in scena questo spettacolo dopodiché lui lavora in altre città sullo stesso format ma con persone diverse quindi a questo punto non ci sono più camion che girano non ci sono più 20-30 persone che girano non ce ne sono al massimo due comunque questo è un accenno molto veloce ma ci tenevo a parlare di questo aspetto perché anche questo aspetto è importante io credo che per concludere queste opportunità vadano colte non per sostituire lo spettacolo dal vivo che è insostituibile ma perché ci sono delle opportunità per una nuova ricerca artistica una ricerca artistica che guardi a un mondo sia per lo spettatore che già esiste ma anche per il fruttore che appunto invece normalmente per esempio in un teatro non ci va e magari tra gli esempi che non ho fatto prima ce n'è uno scusate smetto un artista canadese giovane che faceva sia teatro che danza e in pieno lockdown chiaramente lui è giovane quindi aveva già una dimestichezza lui si è inventato dei videogiochi teatrali che sono straordinari e che chiaramente attirano un utente che non è quello che viene in sala ma in qualche modo lo incuriosiscono perché va bene concludo ho concluso grazie grazie mille grazie Barbara per il tuo intervento che ci hai veramente dato una panoramica piuttosto ampia delle possibilità mettendo proprio in luce insomma quello che è è proprio questa possibilità di creare un'alternativa un'alternativa che non sostituisce ma che crea appunto altre possibilità e allora anche qui rimandiamo insomma tutto dopo direi alla discussione finale quindi andrei a presentare invece visto che si è connesso degli impegni prima insomma è con noi quindi andrei insomma all'ultimo intervento che è quello di Nicola Borghesi attore regista direttore artistico per la compagnia teatrale Kepler 452 il cui titolo dell'intervento è per un teatro interstiziale alcuni appunti registici drammaturgici attoriali sull'invenzione dei dispositivi pandemici anche qui lo dico a te come l'ho detto a tutti prima insomma non c'eri 25 minuti come massimo 5 minuti prima bocce robotica che ti avverte sul tempo così poi ci rimane del tempo dopo insomma per discutere visto che immagino ci saranno grandissimo ecco ottimo e va bene allora a te la parola bene allora intanto buonasera a tutte e a tutti e mi dispiace di non aver potuto seguire tutti i lavori che mi sembravano molto affascinanti appunto io partirei da questo tema del tempo questi 24 minuti e 35 secondi adesso che sono contemporaneamente molti e pochissimi io ho provato a costruire una scaletta ma credo sia la prima volta che tento di ricostruire cioè che mi viene chiesto e di questa cosa vi ringrazio di ricostruire tutta l'avventura che è stata per me e per noi di Kepler 452 in generale questa della pandemia che è stata ovviamente una situazione drammatica per tanti aspetti ma devo dire arrivati a questa altezza per noi veramente dal punto di vista artistico un'avventura memorabile e dall'inizio fino ad adesso per noi questa avventura è molto lontana dall'essere conclusa non solo perché non è conclusa la pandemia ma perché le cose che abbiamo intuito e pensato in questi mesi credo ci accompagneranno a lungo cioè come premessa a tutto e qua esprimo una posizione di compagnia che abbiamo anche messo per iscritto in un piccolo manifesto che abbiamo pubblicato diciamo all'alba della cosiddetta fase 2 se ve la ricordate quella che veniva dopo il lockdown vero e proprio di marzo e aprile 2020 quel periodo così strano ed epico e quello che diciamo in sintesi diceva questo documento era scusate la banalità non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema che è una cosa che vuol dire tutto ma vuole dire anche niente e in particolare per noi vuole dire che le scoperte soprattutto a livello di sensazioni e di emozioni che ci sono ci hanno attraversato in quei mesi lì non sono una cosa da dimenticare o peggio ancora da rimuovere che è esattamente invece quello che in termini generali nella società sta succedendo cioè questa sensazione che ci ha colto a un certo punto che la storia che invece doveva essere morta ci stava di nuovo passando a fianco ecco anche a livello di illusione a livello di mera percezione nuova era un tesoro da non disperdere nel tempo bene parto con le cose che abbiamo praticamente fatto che però diciamo da questo principio dipendono allora quando siamo rimasti chiusi in casa noi stavamo lavorando a un progetto audio guidato noi da anni ci occupiamo di progetti audio guidati è una collana di progetti che si chiamano lapsus urbano e hanno diversi sottotitoli solitamente erano lavori su dei quartieri quartieri spesso problematici quartieri dove c'erano dei conflitti e noi abbiamo in due diverse occasioni in lapsus urbano di senso unico e lapsus urbano bolognina cercato di attraversare questi quartieri mostrandone i conflitti delle sorte di visite turistiche all'incontrario dove viene raccontato non il visibile ma l'invisibile e soprattutto il rimosso dovevamo realizzare una nuova puntata diciamo così di questo lapsus urbano per conto di Agorà della stagione Agorà diretta da Elena Di Gioia dell'Unione Reno Galliera e in particolare Elena ci aveva chiesto di lavorare sulla resistenza partigiana quindi era un lapsus urbano realizzato per il 25 aprile naturalmente il 25 aprile abbiamo molto in fretta capito che non saremmo stati in strada a fare uno spettacolo neanche all'aperto audio guidato ma abbiamo pensato di cogliere questa occasione di avere già in cantiere un progetto audio guidato per lavorare su un progetto che facesse memoria come dovevamo farla per il 25 aprile ma in questo caso del presente cioè ci pareva in quei giorni chiusi in casa se vi ricordate tutto cambiava molto in fretta tutto ogni giorno era una nuova scoperta una nuova percezione di quello che era il presente di quello che sarebbe stato il futuro e quindi in qualche modo anche di quello che era il passato l'obsolescenza delle percezioni delle informazioni in quei giorni era velocissima e questo naturalmente sembrerebbe un cattivo presupposto per fare uno spettacolo mentre invece proprio fissare cristallizzare quelle percezioni in uno spettacolo è stato per noi uno stimolo in particolare l'absos urbano è uno spettacolo audio guidato che si svolge in una piazza in uno spiazzo in uno spazio aperto quindi diciamo non più una passeggiata per costruire la quale è necessario misurare le distanze stare sul territorio e muoverci ma un oggetto teatrale che potesse essere rappresentato in qualunque spiazzo quindi noi segregati in casa immaginiamo un movimento in uno spazio aperto che vedremo soltanto quando sarà possibile andare in uno spazio aperto l'absos urbano è concepito come una come una lettera scritta dai reclusi di oggi quindi diciamo alle vittime del lockdown agli uomini liberi del domani con una domanda centrale che è dunque voi che adesso potete uscire di casa e potete andare in giro e potete fare più o meno non lo sapevamo al tempo quello che facevate prima siete dunque liberi? noi che siamo chiusi in casa siamo meno liberi di voi cos'è questa libertà? che cos'è questa normalità? che cos'è questa percezione che qualcosa sta cambiando in modo così repentino? nello spettacolo ci sono quattro punti cardinali nord sud l'est e l'ovest tra i quali chiediamo al pubblico di muoversi rispondendo ad alcune domande dapprima molto base su come hanno trascorso il periodo di lockdown con chi e poi domande sempre più intime sempre più personali sempre più anche diciamo di respiro ampio quindi passiamo da chiederti dalla metratura di casa tua e qual è la relazione tra la metratura della tua casa e la tua esperienza percettiva del lockdown a il tuo reddito annuo a se conosci qualcuno che durante la pandemia è morto a quanto tempo pensi di vivere ancora a che senso ha il tempo che ti resta in questo passaggio cercando di costruire dei legami sottili tra appunto questa percezione che almeno a noi ha colto di adesso cambia tutto adesso sta succedendo qualcosa di straordinario e questa normalità così spaventosamente simile ma un po' peggio a quella di prima che a un certo punto abbiamo immaginato sarebbe stata quella della fase 2 la fase urbana è stato uno spettacolo molto fortunato abbiamo realizzato tantissime repliche ed è stato per noi l'occasione di ricominciare a fare teatro superando quella cosa per noi imbarazzante volgare di bene ricominciamo come se niente fosse successo distanziati è cambiata la grammatica della sala teatrale quindi dobbiamo stare tutti distanziati in platea dobbiamo stare tutti distanziati sul palco ma facciamo finta di niente cioè riprendiamo gli spettacoli vecchi facendo finta che non sia cambiato niente ecco questa cosa ci spaventava molto l'absorzio urbano è stato per noi un modo di riaffacciarci sulla realtà con il tema delle distanze tra le varie persone che non fosse rimosso ma fosse anzi continuamente teorizzato all'interno dello spettacolo all'interno dello spettacolo c'è un arbitro che interpreto io con la sua maglietta gialla i suoi cartellini che espelle prima ammonisce poi espelle le persone che si avvicinano troppo poi naturalmente non lo faccio davvero però comunque c'è questa idea della distanza non come fatto incidentale da obliterare ma come elemento strutturale delle nostre vite in quel momento che il teatro deve disperatamente e con affetto e con curiosità prendere in considerazione anziché come dato rimosso e anche un'occasione per finalmente rincontrarci guardarci in faccia perché in quel momento forse la cosa centrale era non rifare lo spettacolo vecchio e incontrarci casualmente in platea ma cogliere proprio l'occasione del teatro per dire buongiorno siamo qua di nuovo e adesso cosa succede? L'absurbano tra l'altro continua a girare è domani in scena a Milano continuiamo a fare repliche quindi anche a un anno di distanza e questo è interessante per altri motivi sui quali magari mi sto fermo più avanti se mi resterà tempo ecco l'absus è stato il primo elemento di quello che noi abbiamo chiamato teatro interstiziale diciamo mutuando questa parola dal lessico pandemico e cercando proprio di rendere l'idea di qualcosa che si insinua l'idea diciamo viene in qualche modo dal fatto che qua fuori dalla mia finestra durante il lockdown era cresciuta un'erbaccia in un posto dove non si poteva immaginare perché non tagliavano più niente e proprio questa idea di una roba che veniva fuori da un interstizio e viveva malgrado tutto è stata un'idea abbastanza cardinale quindi teatro interstiziale significa non pretendere di tornare alla normalità e quindi come artisti accodarci a compindustria e dire ecco dobbiamo ritornare a produrre fabbricare fare ma è anche un modo di stiarci dalla parte dei lavoratori che in quel momento dicevano che non avevano voglia per esempio di andare in fabbrica a infettarsi e mi sembrava lunare da lavoratore dello spettacolo anche per una questione idea di solidarietà per categorie di lavoratori dire no e noi invece vogliamo tornare a infettare no cioè in quel momento per noi era prioritario cercare di collocarci dalla parte che ci pareva giusta nella dialettica tra lavoratori e capitale se mi consentite questa dicotomia un po' antica e proprio per questo appunto ci sembrava più interessante capire il teatro deve essere fatto necessariamente come è stato sempre fatto si possono immaginare modi diversi di farlo da qui nasce l'apsus poi noi così rapiti come tutti quanti dai brividi dell'estate del 2020 rimaniamo spiegabilmente col senno di poi sorpresi dalla nuova chiusura che si verifica nell'ottobre del 2020 stavamo tra l'altro provando un nuovo spettacolo diciamo più frontale più normale eravamo nel corso delle prove arriva Giuseppe Conte che dice bene ripartiamo da capo con i teatri chiusi ci guardiamo e ci diciamo bene cosa facciamo continuiamo le prove dello spettacolo che debuterà chissà quando no perché anche l'idea degli spettacoli messi in frizz provati a un certo punto e messi in freezer per chissà quando ci pareva un'idea che non ci piaceva e così abbiamo ci siamo domandati ancora una volta bene durante il lockdown era letteralmente impossibile uscire di casa con i droni che ti inseguivano non appena mettevi il naso fuori di casa ed era proprio impossibile accedere allo spazio pubblico bene la situazione non è più la stessa è mutata ora c'è qualche spazio di manovra chi è diciamo domanda chi è che può classicamente andare in giro la sera il momento in cui tendenzialmente si fa teatro ha un'agibilità per la città coloro che spostano le berci i rider in particolare quindi coloro che movimentano valore ancora una volta ci sembrava affascinante cercare di cogliere queste contraddizioni per cui c'è una gerarchia le cose che si chiudono prima sono quelle meno fondamentali meno rilevanti tra cui noi ora se il teatro diciamo viene chiuso per prima per primo deve giustamente lamentarsi ma anche domandarsi perché nei rapporti di forze esistenti nella società viene chiuso per primo temo ci siano delle ragioni storiche che ancora una volta questa pandemia ci ha fatto osservare e che non dobbiamo dimenticare e cercare di ripartire ancora una volta esattamente prima riproducendo quelle condizioni che ci hanno portato ad essere la prima cosa chiusa perché la più irrilevante o la più o la meno rivendicata dalle persone a cui la togli bene mi sono procurato da un compagno della riders union un sindacato di rider di Bologna che ha ottenuto tra l'altro delle vittorie importanti che era stato licenziato da Deliver 1 avvertenza peraltro interessante mi ha prestato il suo la sua attrezzatura da rider che ancora sta lì nel mio ottacapanni ho preso la mia bicicletta ho comprato un caschetto ho costruito insieme a Enrico Baraldi e Riccardo Tabiglio che hanno realizzato questo spettacolo insieme a me che fanno a loro volta parte di Kepler 452 ho costruito un trabiccolo molto artigianale tra ferramenta e negozi di moto per potermi riprendere mentre pedalavo e da qua nasce Consegna e Consegna funziona che uno spettatore ordina uno spettacolo come ordinerebbe una pizza decide un'ora e un giorno a quell'ora gli arriva un link di zoom in quel link di zoom c'è un rider che poi sono io in un punto della città tendenzialmente lontano da casa dello spettatore mediamente a 4 km io e lo spettatore veniamo messi in contatto e io dico buonasera sono il corriere vengo a farti una consegna tra poco sarò da te e attraverso una serie di dispositivi che accadono durante questo spettacolo io raggiungo casa dello spettatore durante questo viaggio mi interrogo insieme allo spettatore su alcuni punti in questo caso la domanda centrale dello spettacolo è che cos'è essenziale per te ed è uno spettacolo con una drammaturgia che ha dei punti cadi cioè in alcuni momenti diciamo c'è un monologo che è scritto e che io so a memoria ma ci sono dei momenti in cui chiedo allo spettatore di rispondermi e quindi la drammaturgia e l'abilità nel gestirla diventa ripercorrere sempre la stessa linea ma lasciando spazio allo spettatore di inserirsi di intervenire gestendone i tempi cioè cito uno su tutti un dispositivo che è peculiare di questo di questo spettacolo questo spettacolo ha un trucco che io rivelo perché spero di non farlo mai più questo spettacolo perché se lo faccio significa che c'è il coprifuoco che spero non torni mai più a un certo punto verso l'inizio dello spettacolo tra le varie domande che faccio allo spettatore c'è qual è la canzone che ascolti quando sei triste solo disperato poi ci sono mille altre domande in mezzo e una trentina di minuti dopo c'è una curva della drammaturgia dello spettacolo nella quale io sostanzialmente per una serie di ragioni rinuncio a fare quella consegna e quindi me ne vado me ne vado e lascio lo spettatore solo con queste inquadrature di questa città deserta fredda era inverno faceva un gran freddo tra l'altro desolata triste e me ne vado in questo silenzio Riccardo che gestiva la parte tecnica di questo spettacolo collegato in remoto attraverso un sistema con cui abbiamo un po' accherato diciamo le possibilità di zoom fa partire quella canzone proprio quella canzone che tu spettatore in questa esperienza singola uno a uno aveva indicato e quindi diciamo sfruttiamo anche questo rapporto uno a uno per creare un'esperienza per lo spettatore che non avremmo mai immaginato di creare in un altro momento storico lo spettacolo si conclude con l'arrivo del rider a casa dello spettatore quindi con questa mutazione del rapporto in cui in quel momento eravamo molto abituati ed era anche anzi centrale nelle nostre vite il rapporto video cioè il rapporto diciamo zoom meet insomma tutto quell'armamentario lì che abbiamo imparato a conoscere che è un rapporto che ha diciamo sempre un elemento rassicurante cioè io sono qua voi siete là che ascoltate e non succederà mai che io arrivo a casa vostra e qui invece in lapsus succedeva esattamente questa cosa qua che a un certo punto questo tuo interlocutore arrivava a casa tua suonava il tuo prima inquadrava il tuo campanello e poi suonava il tuo campanello e poi ci si incontrava un incontro brevissimo nel quale non spendevamo una parola infatti un incontro in cui non ci si parlava avevamo le cuffie audio guidate che venivano date allo spettatore e questo incontro tra il rider e lo spettatore veniva raccontato da una voce come molto lontana come a guardare questo rapporto tra i due questo rapporto tra due sconosciuti che era quello che ci mancava di più in quel momento perché tra l'altro quest'inverno si potevano vedere delle persone un po' di sgamo un po' sì un po' no però abbiamo visto delle persone a differenza che durante il lockdown i grandi assenti della nostra percezione sociale erano gli sconosciuti e questo rider questo sconosciuto che tu incontravi veniva raccontato da questa voce esterna e lontana come appunto cosa si potrebbe fare insieme questa persona che non conosci questo sconosciuto che è venuto qua solo per lasciare un pacco ad andarsene via che cosa potrebbe essere tra voi vi piacereste e se lo invitassimo a salire e se passassimo insieme la serata e se facessimo quelle cose che danno senso alla vita cioè parlare con uno sconosciuto battere una strada che non conoscevamo prima ecco quindi cerchiamo di concentrarci su quell'essenziale lì su questo imprevisto che non poteva che non poteva verificarsi in quel momento lì e che era sacrificato mentre invece appunto le merci potevano nella loro impersonalità e costruendo rapporti sempre privi di umanità tra le persone e continuare ad essere consegnate consegne ha vissuto poi una sua avverazione a tutto pubblico cioè era meravigliosa questo rapporto uno a uno ma ci siamo molto presto accorti perché per fortuna le vendite di questi in tutto questo scusate io consegnavo delle tagliatelle che facevo a mano tutte le mattine col mattarello e questa non era una cosa teorizzata nello spettacolo ma era in qualche modo una cosa chiara cioè io dalla mattina quando mi svegliavo fino alla sera quando alle 11 finivo di fare l'ultima consegna per me la giornata era dedicata a questo incontro a questo spettatore anche l'idea di un lavoro fatto con un suo tempo avere dedicato un tempo a una persona che non conosco per me aveva un suo significato in quel momento consegne dicevo questo rapporto uno a uno anche mostrato in fretta la corda perché appunto era impossibile incontrare 5 punti sì esatto grazie no no sono sono tutto è 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 anche un'altra versione che si chiama coprifuoco spedizioni notturne per città deserte in cui riproducevo questa dinamica facendo una consegna a un personaggio eh famoso del mondo del teatro consegnato a Marco D'Agostino a Francesca Pennini a Lodo Guenzi mio amico storico e a Veclano e a Randisi e diciamo lì l'interlocutore era un altro artista e quindi coloro che guardavano da casa sapevano che stavano andando a consegnare a qualcuno e diciamo diventava una cosa più aperta al pubblico infine vado anche più rapido perché Barbara molto gentilmente ha già introdotto l'ultimo dei dei formati pandemici cioè comizi d'amore a Buenos Aires appunto il FIBA ci aveva invitato già nel 2019 non siamo potuti andare tramite l'intercessione di Emilia Romagna Teatro e perché Emilia Romagna Teatro ha inventato il FIBA a vedere il nostro spettacolo e hanno detto vabbè loro anche loro avevano riaperto un po' così come si apre di questi tempi tra l'usco e il brusco senza sapere bene cosa fare e loro agitati quanto noi quando stava riapertura ci hanno chiamato ci hanno detto non è che fareste qualcosa diciamo noi veramente venire in Argentina è difficile noi lo sappiamo perché non fate una regia su Zoom e noi abbiamo detto ok cosa volete fare ci hanno chiesto e abbiamo detto ma guarda noi lavoriamo molto con i non professionisti quindi per aggiungere un grado di difficoltà vorremmo fare uno spettacolo con non professionisti abbiamo rimesso in scena un nostro vecchio format di teatro partecipato che ci sembrava perfetto per l'occasione che si chiama Comizi d'amore ispirato al documentario di Pasolini degli anni 60 in cui noi andiamo in giro per le città a ridomandare quelle domande 50 anni dopo e portare in scena la gente sulla base delle risposte che ci danno nel tentativo di costruire un affresco su amore e sessualità in relazione a quel documentario in relazione alla realtà che via via incontravamo ebbene abbiamo chiesto al FIBA e al teatro Coliseo che ha collaborato con noi di trovarci due persone che diciamo definite assistenti ma due temporanei Kepler in più che svolgessero questo lavoro insieme a noi e per conto nostro contemporaneamente in Argentina abbiamo reclutato cinque persone che non si occupavano di teatro nella vita una sex worker transessuale un'attivista di questa cosa che si chiama Collettivo Gordo che è un collettivo che si occupa dei diritti delle persone sovrappeso in Argentina un ragazzino di 12 anni che faceva le scuole medie e suo padre un quarantenne e Olga una signora di 82 anni che insieme hanno costruito questo affresco su amore e sessualità a Buenos Aires dentro so di avere ancora a disposizione un minuto e dieci non mi sfugge dentro un circolo di auto che è un dispositivo scenografico inventato da uno scenografo italiano che si chiama Emanuele Sinisi nelle quali stavano gli spettatori illuminando la scena con i fari in realtà facendo gli appoggi di altre luci e lo spettacolo viene ascoltato attraverso la radio della macchina quindi una sorta di drive-in circolare e abbiamo fatto uno spettacolo in Argentina che credo sia venuto bene perché non l'ho mai visto dal vivo ma una cosa diciamo specifica da dire di quell'esperienza lì è quanto incredibile è fare un spettacolo che è una delle esperienze che credo che unisca di più le persone scusate la banalità con persone che non hai mai visto dal vivo e con cui sei amico ma proprio come quando vai a un spettacolo che sei compagno amico che non abbiamo mai visto in faccia e che tuttora non abbiamo visto in faccia con le quali però stiamo cercando di fare tanti progetti ho finito il tempo a disposizione aggiungo solo una cosa per noi non è finito tutto questo in questo momento ci troviamo a fare un nuovo spettacolo frontale una produzione di Emilia Romagna Teatro che si chiamerà Il Capitale tratto da un famoso libro di Carlo Marx che non avevamo mai letto ma che stiamo leggendo perché uno dei punti che ci davamo in questo manifesto è non dimenticare quando tutto riprenderà o sembrerà riprendere quello che è successo e come ci siamo sentiti diciamo desiderosi di essere vicini e solidali agli altri e di non perdere di vista la realtà e le conseguenze che questa pandemia avrà e stiamo seguendo le vertenze le lotte dei lavoratori oggi non ero qua perché appunto ero alla GKN a Firenze dove stiamo trascorrendo le nostre giornate in questo periodo perché appunto il teatro interstiziale non è finito e auspicabilmente non finirà mai non perché non debba finire la pandemia ma perché non credo debba finire la nostra attenzione a quelle cose che abbiamo scoperto capito ricordato forse durante la pandemia grazie 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 anche per quello che fate mi viene da dire e a questo punto direi che insomma abbiamo un po' di tempo per la discussione e lascerei insomma prima la parola a chi vuole iniziare a intervenire come sapete c'è la manina per prenotarsi sì scusa Valentina oltre a segnalarti che non sei in video io direi che non facciamo una pausa a questo punto ma proseguirei casomai finiamo un po' prima delle 19 previste ma raccoglierei subito tutti quelli che su queste ultime quattro comunicazioni hanno delle domande o delle repliche o delle reazioni ma anche chi vuesse riaprire o continuare i discorsi che abbiamo fatto nella prima parte altrettanto molto volentieri chi si prenota così facciamo un primo giro sei sempre fuori immagine Valentina non ti sentiamo veramente più veramente io mi vedo nel video e penso mi vedono altri è tutta una cosa tra te nel tuo computer che non mi vuole qui in aula non ti vediamo siamo in tanti ma non ti vediamo comunque sopravviviamo se basta la voce chi vuole fare domande considerando che il pacchetto è molto ampio che ci sono tante cose da discutere peraltro quest'ultimo intervento di Nicola Borghesi ci come dire ci dà anche lo spunto il lancio per ricordare che proprio la prossima nell'appendice del 12 ottobre parleremo con Erika Fischer-Lichte proprio diciamo dell'importanza della presenza della compresenza di attore e spettatore che è un po' il cuore dello spettacolo dal vivo queste ultime considerazioni a proposito del costruirla a distanza anche come come regia sono molto paradossali ma interessanti perché vanno a intaccare alcune cose che diamo per scontate che senza essere in contatto diretto fisico non sia possibile quel passaggio di conoscenza anche emotiva evidentemente no questo intestizio ci ha consentito di arrivare a quella c'è una richiesta di Giovanni Leone darei subito la parola così intanto avviamo lo scambio grazie io ho ascoltato tutto con grandissimo interesse naturalmente da una prospettiva così di mia disciplinare un po' diversa ma almeno non so se è una domanda più che altro l'aggiunta di un tema che in qualche modo potrebbe intrecciarsi con quasi tutto quello che si è detto e che ho ascoltato appunto come dire col piacere dell'ignoranza e di imparare delle cose e si è parlato una valenza politica delle immagini però mi pare ci sia anche una valenza finanziaria delle immagini che si è molto evidenziata con la pandemia e quindi al di là di tutta la questione interessantissima di come si modifica l'esperienza che sia quella teatrale o quella cinematografica o quella musicale naturalmente è una questione enorme oggi si sono dette cose interessantissime che personalmente mi hanno da utilizzatore di tutti questi aspetti spettacolari mi hanno aperto degli squash però mi sembra anche qualcuno forse ne ha accennato che questa diciamo prepotente digitalizzazione sposta dei flussi economici cioè sposta i vantaggi economici adesso alcuni temi sono da giornali il boom dei vari delle varie diciamo monopoli televisivi piuttosto che però io credo che quello è il macro fenomeno ma penso che il fenomeno ci sia anche a scale diverse e sia da studiare molto attentamente cioè ci sono degli spostamenti di denaro e ci sono degli spostamenti quindi come dire anche di controllo di quello che è la produzione un po' creativa perché lo spostamento di denaro poi non è inessenziale rispetto a questo aspetto qua e questo mi sembra molto interessante e butto lì un tema naturalmente non voglio discuterlo adesso ora c'è un tema che così mi è un po' più vicino c'è molta diciamo entrata in scena prepotentemente questa idea della città del gemello digitale della città che si sta usando anche in chiave elettorale a Bologna questa idea di costruire il gemello digitale della città ecco sentendo una giornata come quella di oggi nascono molte preoccupazioni poi devo dire che l'ultimo intervento mi ha un po' rassicurato nel senso che è la dimostrazione di come si può usare il digitale per tornare nella città per tornare nei luoghi per riallacciare dei rapporti reali quindi mi ha confuso quello che avevo pensato all'inizio su questo tema però così lo metto come un punto di discussione di attenzione perché poi dire gemello digitale della città significa ricomprendere tante politiche culturali che possono poi quelle di cui si è parlato oggi il teatro piuttosto che il cinema piuttosto che la musica e mi sembra un tema su cui riflettere attentamente nel senso che se il digitale adesso dico una banalità di quelle proprio da settimana in mistica però sul gemello digitale forse della città forse non è così banale se rimane uno strumento di gestione il digitale di diffusione di allargamento del pubblico di un modo per portare a un pubblico che non può diciamo vivere direttamente quell'esperienza può essere interessante però rimane un uso strumentale se diventa invece l'obiettivo lo voglio chiamare politico della politica culturale che si fa mi sembra che diventi un tema molto delicato nel senso che non escludo che possa essere anche interessante che l'obiettivo politico sia di trasformare l'esperienza diretta in esperienza digitale ma ci vedo tanti pericoli diciamo invece di una forte come dire svolta appunto di tipo strettamente commerciale di vantaggi economici di tanti meccanismi che poi tendono a stritolare tutto quello che non è canonico che non è mainstream che non è che non rientra in quel ritorno alla prima spaventosa in senso buono intervento di questa mattina tutti se immagino delle nostre vite le nostre città la nostra cultura ha dei macchiaggi come quelli che abbiamo visto con quei programmi diciamo del primo intervento mi vengono un po' i brividi non ho fatto una domanda era pomeriggio ma sembra passata come se fosse mattina siamo qui da 5 ore sì no scusate ma no ce l'ho avuto una mattina adesso me la sono dimenticata ma ce l'ho avuto no ma lo volevo precisare per dire che anche sembra che 5 ore attaccati però mi sembra che stiano uscendo tempo qualcun altro chiede la parola qualche d'una che vuole riprendere qualsiasi tema io nel vuoto chiederei però a Borghesi di spiegarci cos'è il teatro audio guidato che io non lo so abbia pazienza non c'è il microfono certo scusate forse appunto nello sforzo di ripercorrere questi mesi tumultuosi in 25 minuti ho dato per scontato alcune cose ma il teatro allora il teatro audio guidato non saprei però diciamo posso artigianalmente dire che noi possediamo acquistate peraltro con un bando del comune di Bologna il bando incredibile delle cuffie audio guidate delle cuffie wireless quindi sono fisicamente delle cuffie che però appunto non hanno un cavo e comunicano con una trasmittente che può essere collegata a un riproduttore audio o un microfono a ciò che a ciò che si vuole e attraverso queste cuffie ci sono gli spettatori che sentono tutti la stessa cosa quindi diciamo hanno una voce nella testa è un dispositivo già diciamo esplorato ampiamente in classici del teatro direi come Domini Pubblic di Roger Bernat o Remote X dei Rimini Protocol che è una compagnia tedesca a cui noi dobbiamo molto in termini di ispirazione e appunto sono un dispositivo che permette a un pubblico numero variabile di avere un audio non percepibile dall'esterno ma che appunto organizza gruppi di persone all'interno dello spazio urbano in modo più o meno compatto e quindi diciamo l'effetto spesso straniante è vedere un gruppo di persone che fa la stessa cosa senza una ragione apparente e quindi c'è questo effetto straniante dall'esterno e questo effetto straniante dall'interno e naturalmente è incluso in questo dispositivo un ragionamento sul controllo sulla disciplina sul eseguire delle istruzioni che ti vengono fornite da una voce poi diciamo questo dispositivo ha molti usi nel senso che le cuffie hanno anche canali diversi quindi può significare che gli spettatori un gruppo di spettatori sente una cosa un gruppo ne sente un'altra e ecco senza dilungarmi troppo il dispositivo che impieghiamo è questo e è un dispositivo sul quale si può fare moltissima ricerca nel senso che è proprio uno strumento teatrale da quale si può fare un sacco di cose da partire da delle passeggiate con una voce che dice gira a destra gira a sinistra e tu dici oddio c'è una voce che sa dove sono e come mi sto spostando all'interno dello spazio urbano a più semplicemente uno spettacolo come l'Apsus il primo giorno possibile quello diciamo il formato pandemico un gruppo di persone che si relaziona sentendo lo stesso audio che chiede loro di fare delle cose grazie grazie a questo punto ho visto che c'è la mano alzata di Maurizio Tarantino sì 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 ho visto non andava l'audio e no dunque io volevo riprendere alcune cose rispetto alla breve chiacchierata che avevamo accennato prima con il professor Arbo e poi anche per dire che sono un fan di Kepler penso di averli ospitati tra i primi proprio con un'audio guida sul teatro comunale su una visita molto molto particolare ma allora intanto riguardo al discorso della questione del sfruttamento economico del del digitale è oggettivamente un tema che andrebbe approfondito più che del digitale c'è un problema molto forte di governance del del dello sfruttamento economico delle delle grandi major delle grandi industrie multinazionali del digitale su quale c'è praticamente un controllo inesistente e una scarsissima diciamo potenzialità anche degli stati di governare un flusso di informazioni di cui la cultura è soltanto una piccola parte che tende a governare i processi politici economici interplanetari cioè siamo davanti a una situazione che non si è mai verificata e su questo la cultura è soltanto un piccolo tassello totalmente ininfluente nel senso che non ha nessun senso parlare di in termini di numeri non c'è non tiene non c'è una fruizione tale della cultura da essere significativa sulle grandi piattaforme social o di trasmissioni video eccetera eccetera ci sono degli enormi business legati soprattutto a alcuni elementi per esempio vi faccio un esempio io anni fa per curiosità avevo avevo iniziato a indicizzare gli ascolti dell'orchestra del teatro comunale di Bologna su Spotify dopo circa tre anni me l'ho proprio dimenticato ho scoperto che l'orchestra del teatro comunale di Bologna è ascoltata da circa 360 mila ascoltatori mensili ed è una delle orchestre più ascoltate d'Italia questo su prodotti discografici che sono stati inseriti su Spotify non dal teatro comunale di Bologna ma sono stati inseriti dalla Sony dagli artisti anche gli artisti possono inserire autonomamente aveva inserito la fondazione Pavarotti credo abbia inserito un ballo in maschera che avevano fatto qua insieme a Shaili negli anni 90 e quindi c'è il controllo del musicale di Spotify è qualcosa di diciamo non era mai successo in verità si è avverato quello che Steve Jobs aveva già prefigurato molti anni fa prima della sua morte sapete che Steve Jobs creando gli strumenti le device tipo iPhone eccetera eccetera soprattutto con la piattaforma di iTunes stava lavorando per mettere insieme tutte le più grandi testate giornalistiche degli Stati Uniti e si prefigurava come unico grande diciamo magnate della stampa insomma è successo poi questo cioè non l'ha fatto l'Apple l'ha fatto Spotify l'ha fatto Netflix e ci sono delle piattaforme che controllano i contenuti diciamo che vengono messi sul web e ne decidono le sorti e poi ci sono degli scimmiottamenti che sono purtroppo questo è anche istituzionali tipo adesso spero che ci sia nessuno che lo vada a dire a Franceschini ma io penso che It's Art non sia stato un grande successo in linea di massima forse è meglio non farli e forse è meglio interrogarsi su come disciplinare l'uso di questi strumenti che sono fondamentalmente monopolistici su temi molto delicati come quelli della cultura riguardo al discorso io purtroppo non ho avuto modo e mi dispiace molto di sentire perché mi sono collegato dopo il discorso che ha fatto il professor Arbo ho capito che trattava della questione dei diritti d'autore che sono sacrosanti e credo che ci siano due diversissime posizioni in tutto ciò uno se si dà un'opera d'arte gratuita al fruitore a tempo determinato che poi dopo viene tolta e lo fa un teatro dottrini promozionali e un altro se lo fa una piattaforma per guadagnarci su una pubblicità che vende saponette sono due cose totalmente diverse e penso che anche questo sia i diritti d'autore devono essere tutelati perché se mancano i diritti d'autore manca l'arte manca oggettivamente gli artisti devono poter guadagnare proprio il lockdown ha messo in evidenza uno dei problemi principali della produzione dell'arte della produzione artistica soprattutto in Italia c'è un problema enorme su questo perché non ci sono le basi perché un artista attore musicista possa continuare a fare quel lavoro senza farne un secondo un terzo e questo è fondamentale perché poi se dopo viene meno l'artista viene meno l'opera d'arte cioè noi siamo esattamente il prodotto che andiamo a distribuire poi decade la qualità e quindi io penso per esempio rispetto al discorso che faceva i borghesi prima che loro è un diciamo un teatro che ha a che fare molto con il linguaggio che stravolge molto la produzione anche al di là dell'aspetto digitale c'è proprio un discorso interattivo tra l'attore e lo spettatore che lo rende partecipo quindi mi vengono in mente altre esperienze teatrali di ricerca e credo che il teatro e la ricerca siano fondamentali per rappresentare e raccontare la società in cui si vive e che possano avere delle grandi trasformazioni detto questo però non vuol dire che queste grandi trasformazioni devono far venire meno la capacità stessa di creare l'arte quindi insomma ci tenevo a dire questo perché prima ho fatto tutto un discorso sull'importanza di essere sul digitale e di farlo anche in maniera diciamo oculata e farlo anche molto con una grande produzione sul digitale ma non intendevo certo il fatto che comunque questo potesse minacciare il discorso dei diritti e della sacrosanta diciamo facoltà degli artisti di guadagnare per la loro arte allora grazie ho visto che ci sono varie manine alzate la parola mi sento in ordine poi Alessandro Acqua si mi sentite perfetto adesso c'è anche il video no una volevo porre una questione al professore Alessandro Arbo che rispetto al suo intervento della prima parte diciamo del pomeriggio c'è una cosa che mi ha interessato diciamo quando lui discuteva del valore estetico della rappresentazione della modifica del valore estetico diciamo della rappresentazione e rispetto al tema dell'autenticità due questioni che cerco di dire in modo molto rapido la prima è che a me pare che questa situazione ad esempio della fruizione di musica la produzione di musica in digitale abbia da un altro punto di vista reso impossibile una delle cose che ritenevamo essere abbastanza consuete cioè delimitare e dare un inizio una fine ad una rappresentazione appunto estetica nel senso che la condivisione e la fruizione e la generazione continua di immagini poi portano diciamo la performance ad essere da un certo punto di vista chiusa in un arco temporale da un altro ad essere aperta infinitamente diciamo emendata sviluppata criticata quindi c'è mi sembra poi mi correggerò se sbaglio una una relazione ancora più attiva e ancora più efficace rispetto alla performance classica nel senso che si la generazione diciamo di immagini continua e la produzione digitale portano diciamo ad avere un costante ritorno un numero delle visualizzazioni l'interlocuzione mi sembra che in altre parole si possa dire che anche rispetto alle performance classiche quelle a cui eravamo tra virgolette abituati almeno quelli della mia generazione cioè non persone giovanissime ci sia in questa dimensione digitale una relazione più potente tra analogia e discordanza rispetto diciamo all'originale rispetto al pezzo suonato nella sua versione iniziale registrata su supporto tradizionale che poteva essere un vinile piuttosto che un cd mi sembra che vi sia questo tema di perdita dei confini e di continua relazione tra appunto analogie e discordanze che poi è uno dei lavori delle immagini cioè produrre continuamente questa questa relazione gli chiedevo se vuole se ritiene che sia utile poterci dire qualcosa in questa direzione grazie a sto punto visto che poi la parola tornerà anche ad Arbono però prima andiamo in ordine Anna Fiaccarini e poi Arbo con il suo intervento e anche con la risposta alle domande Sì no mi dispiace interrompere il flusso io in realtà mi riagganciavo a quanto ha detto Maurizio Tarantino mi sembra molto interessante l'accento sugli autori ecco che credo che le istituzioni oggi i teatri o i musei o le cineteche possano essere un ponte molto importante per creare un vero legame tra gli autori e il pubblico ovvero anche e grazie al digitale cioè i progetti che noi abbiamo portato avanti con maggiore successo sono quelli che nascono da finalmente un accordo e appunto si sbroglia una matassa si si condividono gli intenti e anche sul piano economico e finanziario c'è una partnership ecco che si arriva poi c'è una nuova partnership per arrivare in maniera più forte verso il pubblico e è vero come dice Maurizio Tarantino siamo pesci piccoli non c'è paragone volutamente non ho parlato delle piattaforme anche se potremmo riprendere in mano una giornata di studi e parlare solo delle piattaforme con dati alla mano e tutto però guardate oggi rifacendolo appunto questo compito che mi ha dato Valentina di elenco degli archivi uno dei più importanti dei primi è l'Imperial War Museum che inizia dalla prima guerra mondiale raccogliere materiali video e quindi finanziamenti ad hoc del governo britannico eccetera quindi grandi investimenti e poi mette materiali della prima guerra mondiale su YouTube con l'esperienza veramente un po' scioccante per me infatti ho tralasciato di mostrare l'esempio di vedere un interessante documentario sulle dittature inframmezzato da una pubblicità di profumi è stata veramente un'esperienza appunto di vista abbastanza estraneante quindi lo so capisco che molti archivi ma anche di media portata hanno dovuto appoggiarsi moltissimi lo fanno ancora YouTube anche noi abbiamo i canali YouTube per finalità promozionali della Cineteca però c'è un rischio anche questo è un rischio e non certamente non voglio demonizzare nessuno parlo anche di un'esperienza in positivo la Cineteca è riuscita ad avere un accordo con Netflix il Colosso per avere in anteprima in sala Roma di Cuarone quindi creare una partnership per cui valorizziamo l'evento in sala prima che il film esca sulle piattaforme ecco queste sono piccole idee o formule che possano in qualche modo anche evitare di restare completamente schiacciate o beneficiare degli enormi passi avanti che hanno fatto questi colossi quindi ho mostrato due diverse metà della mela ma non so se insomma credo che vada in linea con quello che sta emergendo dal workshop ecco grazie Anna e allora a questo punto dare la parola a Darbo che ha sia le domande sia un suo intervento grazie ecco adesso si dovrebbe sentire dunque incomincio con la domanda che è più facile insomma non è che scusse beh diciamo sì certo apertura dei tempi diciamo della performance ma come tutto ciò che è naturalmente registrato lì viene proprio alla luce il fatto che il web è un anzitutto un grande dispositivo di registrazione e quindi di messa a disposizione cioè trasformazione in archivio in documento di tutto poi che ci sia il problema di conservare questi documenti capisco benissimo però in qualche modo il fatto che qualche cosa che è stato pensato come performance di un momento destinato forse come dire a quei non so voglio dire 500 o 1000 o anche 10.000 spettatori che in quel momento si sono collegati possa poi continuare la sua storia in questa grande reticola diciamo che rizomatico che è il che è il web mostra proprio il potere della registrazione e soprattutto il funzionamento di questa isterisi cioè continua a produrre effetti che non sono più legati diciamo all'intenzione stessa del musicista in quel momento insomma ma è un lato come dire anche abbastanza trovo abbastanza affascinante come dire legato così a questa tecnologia ma io penso c'è una cosa molto molto bella che è venuta fuori appunto da questi bellissimi interventi e sì effettivamente come dire c'è un'idea di ripensare l'esperienza no cioè in fondo il digitale da un lato come dire si è inserito lì per scodellare un po' lì dentro quello che c'era già nel nostro mondo reale insomma dall'altro però ha innescato qualche cosa che diventa come dire anche un nuovo formato una nuova un nuovo modo di concepire che sia il teatro che sia lo spettacolo musicale eccetera naturalmente voglio dire quando si pensa all'opera si pensa a uno spettacolo che si vuole in un luogo specifico in un luogo deputato è sicuro che ci si può immaginare anche un'opera proiettata verso una ricezione in streaming ma sarà un'opera nuova voglio dire non sarà né il trovatore né voglio dire cioè quelle sono opere che diciamo nelle quali come dire l'esperienza che si può fare sulla piattaforma è naturalmente ridotta insomma o comunque cambia di natura insomma si capisce però il teatro come pensato da Nicola Borghesi cioè è proprio aprire come dire un orizzonte nuovo accettare una sfida e muoversi in questi interstizi direi che esiste anche questa opportunità e si potrebbero produrre tanti esempi anche in musica effettivamente di tanti musicisti che hanno adattato forme vecchie come dire a nuovi formati insomma e quindi anche questa possibilità di immaginare come dire qualche volta esistono anche generi musicali che sono pensati interamente in questa proiezione diciamo sul web basta pensare a tutti quei sono soprattutto musica elettronica per carità dove la performance è relativa ma vaporwave chillwave ontology e tutte queste forme qui sono generi interi musicali che sono nati in questa proiezione come dire a distanza insomma perché no anche lo spettacolo vivente che però naturalmente sarà uno spettacolo immaginato in funzione di questo dispositivo insomma quindi più difficile immaginare invece quello che non è nato non è stato concepito per questo tipo di diffusione con diciamo che una migrazione forzata come naturalmente le cose forzate non funzionano mai bene non so se ho risposto a tutto insomma però insomma grazie Alessandro non so se ci sono io ci sono ancora le mani alzate di prima ma insomma non mi pare ce ne siano di nuove non so se ci sono altri interventi immagino che insomma è un po' di ore che siamo in digitale saremo anche un po' stanchi 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 possiamo ritenerci soddisfatti e congedare i nostri ospiti ricordando che appunto per cercare di focalizzare specificità e novità dell'esperienza dell'esperienza dello spettacolo dal vivo e delle varie forme di arti performative ci ritroviamo fra due settimane con la conversazione con Erika Fischer Lichte noterei anch'io come già faceva Giovanni che c'è un sempre più stretto nesso Giovanni Leone nel suo intervento tra dimensione sfera estetica e quella che è stata variamente evocata come economia politica o politica ed economia che convergono discorso ampio abbiamo mandato già il telegramma a Franceschini per dirgli cosa ha detto Tarantino prima per il resto siamo apposta scherzo naturalmente ma insomma mi sembra ormai un sviluppo diventato inestricabile grazie io ringrazierei tutti poi chiederei agli studenti del corso dopo che abbiamo staccato con gli ospiti restare solo un minuto perché li vorrei congelare con un po' di lavoro da fare per la prossima volta ma questa diciamo è la bottega detto grazie davvero a tutti continuiamo questa ricerca avrà vari momenti pubblici da qui a gennaio e avremo un'esperienza di rincontrare i nostri ospiti e chi altro vorrà collegarsi più e più volte buona serata a tutti e grazie ancora buona serata arrivederci grazie ecco un attimo che vadano via così ci metto in relazione con gli arrivati Andrea io rimango o no? posso andare? se vuoi dei compiti anche tu ne do anche a te no io me li evito ne ho già di miei grazie no ti ringrazio molto mi sembra che sia tutto bene poi commenteremo nei prossimi giorni intanto buon lavoro a te grazie ancora del tuo validissimo contributo perfetto grazie grazie ciao 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 ora ragazzi molto rapidamente non volevo trattenervi se non più di un minuto io direi che visto che appunto la nostra prossima lezione è martedì io vi chiederei visto che avete reagito bene anche le ultime due lezioni cioè la lezione scorsa mi avete mandato ho ricevuto oggi anche la vostra reazione al film che abbiamo visto insieme io vi proporrei di scegliere alcuni punti per uno quindi non andare oltre una paginetta una paginetta e mezzo quel che vi viene di cose che vi hanno colpito nella seminaria a cui avete assistito oggi che avete capito meglio o peggio ma provate un po' a descriverle così vediamo di focalizzare la prossima volta anche i problemi che eventualmente sono emessi di compressione senza che senza che diventi un resoconto di cinque ore scegliete due tre punti o aspetti del discorso che vi sono sembrati più interessanti o che non avete capito quindi chiedete e fate una paginetta una paginetta e mezzo in cui date conto di questo la prossima volta ricominciamo dai vostri lavori e come vi dicevo approfondiremo meglio quel primo classico dell'estetica della città del novecento che è Zimmel tra quelli che dobbiamo leggere anche lì riprendendo tutti gli spunti che avevamo notato già nel nostro nella nostra conversazione poi nei vostri testi del film di Walter Ruthman che è proprio molto collegato l'avevamo notato vi l'avevo stolineato io a questa diagnosi della nuova esperienza urbana che per primo Zimmel all'inizio del novecento ha messo in forma tutto chiaro? allora d'ora in poi ci vediamo in quest'aula che per voi ho capito è più comodo perché avete le altre ore nello stesso edificio poi in teoria c'è più posto ma per ora non ne avremmo bisogno ma io mi auguro che visto che l'aula ha capienza sufficiente a accogliere tutti gli studenti del corso che chi non è proprio impossibilitato da motivi pratici perché voglio dire è all'altro capo del mondo che so io sia presente perché come vedete so io sono un fiero partigiano della presenza dal punto di vista c'è la interazione oggi l'abbiamo avuta poca ma la volta scorsa se ricordate molta di più dalle prossime lezioni quando dobbiamo collegarci con qualcuno vorrei avere molto scambio con voi perché così si capisce meglio io capisco se capite voi avete modo di chiedere spiegazioni eccetera grazie anche a voi ci vediamo la settimana prossima grazie arrivederci arrivederci poi c'è una ragazza che si chiama Gindre è presente? no che mi aveva chiesto sì prof purtroppo se non dovevo andare via mezz'ora prima mi sto seguendo online ah mi sto seguendo allora facciamo così io le mando una mail con una proposta di lavoro da presentare lei ha un problema in salute perché deve assentarsi da presentare in modo sostitutivo d'accordo? va bene grazie mille poi se non gliela mando me la richieda perché magari mi sfugge con tutti gli impegni certo io devo essere via per tre giorni a un congresso a partire da domani quindi se lunedì o martedì non l'ha ricevuto mi dica qualcosa io gliela mando perfetto benissimo grazie a lei buonasera grazie allora vediamo un po' arrivederci arrivederci ragazzi buonasera ciao Andrea buonasera ciao Ruggero ah Ruggero è rimasto ancora grazie ancora immagino immagino che tu ad Andrea Palermo al convegno eh sì io vado a Palermo sì ho sentito prima Roberto Diodato abbiamo eh caro amico che tutti che in tanti sarete lì va bene io un saluto allora ma spero che avremmo altre occasioni perché poi ho trovato molte sintonie con le cose che c'è detto oggi quindi naturalmente i campi contigui non sono la possibilità ma maggiore ragione io poi scusa visto che sei ancora collegato ti segnalo anche questo io stavo pensando da questa serie di conversazioni poi ce ne saranno altre oltre alla Fischer-Licht fra due settimane faremo qualcosa anche in gennaio c'era Montani che parlerà di sì appunto di è un amico un caro amico tecnologica modificata integrata eccetera e quindi e altri insomma ne avremo 5 o 6 che hanno diciamo un taglio più strettamente di studio di ricerca io stavo pensando non ho ancora definito ma non ci dovessi problemi di fare una breve serie di testi anche cioè dentro l'estate prossimo non domattina una serie di interventi iscritti che vi hanno conto anche di questo lavoro cosa dici molto volentieri ecco allora ci sentiamo poi per definire anche di questo ti so dire più tardi se sono riuscito a scaricare ma di sì 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 non problemi perché è che qui se lo scarico qui dopo devo mandarmelo diventa sì 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 certo è un po' pesante se tu mi dici che non riesci io ti faccio un e-transfer appena perché Teams mi rallenta tutto per cui puoi anche mandare un e-transfer è un casino invece vabbè vediamo un po' se si riesce meglio se no te lo faccio con calma dopo benissimo grazie tante a presto ciao buon lavoro arrivederci saluti anche a presto